buongiorno a tutti sono paolo castelli funzionario storico dell'arte della direzione generale creatività contemporanea a nome della quale do il benvenuto a tutti i partecipanti alla prima giornata di studio del progetto arte e spazio pubblico arte e spazio pubblico è un'iniziativa promossa dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura e realizzata congiuntamente con la fondazione scuola dei beni delle attività culturali con la quale si sono condivisi obiettivi metodologie e contenuti è un progetto che vuole riflettere sullo stato sull'evoluzione e sulle prospettive delle diverse forme di arte contemporanea presenti nello spazio pubblico sul territorio nazionale cercando di indagare i rapporti tra premesse teoriche e pratiche progettuali messe in atto nato nel duemila e ventuno il progetto in corso ha previsto fin dall'inizio un articolazione in diversi momenti consecutivi e complementari a una prima fase di studio e ricerca che ha coinvolto un comitato di esperti e specialisti a livello nazionale chiamati a individuare e a perimetrare le tematiche di maggiore attualità legate al dibattito sull'arte contemporanea nello spazio pubblico segue ora la fase più allargata e più operativa delle giornate di studio queste vogliono essere un appuntamento formativo pubblico ma al contempo un'occasione di confronto e di dibattito organizzate come sono in una sessione plenaria mattutina e in tavoli di lavoro pomeridiani con una giornata conclusiva in cui raccogliere le idee e tentare una sintesi a queste giornate di studio seguirà poi come restituzione degli esiti un'ulteriore fase di disseminazione attraverso la pubblicazione degli atti molti sono i temi emersi nella fase di ricerca come significativi e sensibili l'arte pubblica come campo di azione interazione tra spazio urbano e territori e tra territori comunità i possibili strumenti di conoscenza e promozione delle opere tra mappature e narrazioni le varie politiche e pratiche di progettazione e programmazione che coinvolgono artisti committenti mediatori le diverse questioni di diritto chiamate in causa e quelle legate alla conservazione e alla cura si è cercato di incanalare questa varietà di aspetti all'interno di quattro principali ambiti tematici legati alle definizioni di spazio temporalità partecipazione e committenza ciascuno di questi temi impronterà una delle prime quattro giornate di studio i contributi delle giornate di studio sono stati selezionati anche mediante una call for abstract che ha permesso di raccogliere a livello nazionale e internazionale significativi interventi correlati a casi studio indagini riflessioni proposte a ogni giornata parteciperanno nella sessione plenaria relatori reclutati dalla call e relatori invitati dagli organizzatori presentando interventi di 15 20 minuti ciascuno allo stesso modo anche nella sessione pomeridiana parteciperanno ai tavoli che si pongono come momenti di dialogo interazione interlocutori individuati tramite call e altri chiamati ad integrazione per rendere più completo il dibattito questi incontri vogliono essere innanzitutto un'occasione di scambio e di confronto fra diversi soggetti interessati a vario titolo dal fenomeno dell'arte negli spazi pubblici è un momento di riflessione aperta in cui raccogliere esperienze e avanzare ipotesi la giornata di oggi è dedicata al tema dello spazio a moderare la sessione plenaria della mattinata saranno Laura Barreca e Alessandra Pioselli a moderare invece due tavoli del pomeriggio saranno Laura Barreca per il primo e Federica Pesce e Maura Romano per il secondo diamo dunque inizio alla sessione plenaria della prima giornata di studi cedo la parola a Laura Barreca ecco grazie Paolo Castelli e grazie alla direzione generale creatività contemporanea del ministro della cultura con noi il dirigente Fabio De Chirico e alla fondazione che ci ha accompagnato e con la quale abbiamo condiviso questo percorso che diciamo con una modalità virtuosa e frattalica adesso oggi diventa veramente pubblico e ha si estende appunto a tutti quanti a tutte le persone a tutti coloro che hanno partecipato a questo processo eh di ehm di concepimento appunto di ehm di riflessione ehm benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo anche da remoto a questa conferenza eh la prima conferenza plenaria dedicata allo spazio e coordinata oggi con Alessandra Pioselli che è qui eh che parlerà appunto immediatamente dopo di me e stamattina abbiamo la partecipazione di un tavolo eh ricco di esperti ed esperte in che sono impegnati sia in campo teorico che nelle pratiche di progettazione dello spazio pubblico eh vorrei presentarvi brevemente i relatori ehm parlerà appunto il professor Claudio Baragnoli presidente del comitato tecnico scientifico per l'arte e dell'architettura contemporanea ehm seguirà Michele Ceruti Butto ricercatore dell'Accademia Unidee ehm Gabi Scardi professoressa dell'Università Cattolica di Milano e Mazzanella Alessandro Cassiglioni rispettivamente direttrice e vice direttore del Museo Maga di Gallarate Claudio Musso docente dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara a Bergamo e Valentina Sansone ehm del Goldsmith College di Londra e docente al master per curatori dell'Università di Stoccolma dalla quale è collegata quindi abbiamo anche un collegamento internazionale. Ognuno dei relatori contribuisce oggi in modo fattivo al dibattito intorno a quelle che sono state già delineate come le strategie di progettazione e le pratiche artistiche dello spazio pubblico. E l'incontro di stamattina, la plenaria di stamattina riguarda da un lato i ehm diciamo la ridifinazione dei concetti di uso di gestione e di proprietà degli spazi che spesso sono condivisi eh tra il pubblico e il privato e dall'altro la necessità di ripensare a due nuove modalità di intervento e di ingaggio con la collettività. Eh di ingaggio però in che modo? In chiave relazionale, in chiave ecologica, di sostenibilità e ehm permettetemi di utilizzare anche quelle che sono diciamo in qualche modo le parole chiave eh di cura, prossimità e benessere. L'obiettivo quindi è di interpretare queste necessità eh attraverso il cambio di paradigma a al quale siamo tutti sottoposti ehm e e che prendiamo in considerazione appunto nelle operazioni ehm che riguardano per esempio la risignificazione partecipata degli spazi pubblici eh e questo nuovo atteggiamento dovrebbe in qualche modo guidare anche dovrebbe essere alla base di quella che è l'educazione al patrimonio e eh la sua valorizzazione, la valorizzazione come eredità culturale pubblica. E sappiamo anche quanto sia importante il tema della committenza pubblica, della committenza privata, il lavoro degli artisti, il modo in cui il lavoro degli artisti dovrebbe essere integrato nelle fasi, nel segmento decisionale che ehm ehm che che abbiamo appunto eh nella eh nelle fasi di ristrutturazione per esempio degli immobili pubblici e eh di quelli privati ehm nei processi di rigenerazione urbana che riguardano appunto i territori e che riguardano anche le aree periferiche. Ad esempio ehm nel campo appunto della ristrutturazione e il bonus facciato, gli incentivi del centodici per cento potrebbero essere per esempio ehm comprese le spese ehm cioè le spese ammissibili potrebbero essere eh anche destinate a quelle delle diciamo delle operazioni e delle operazioni artistiche. Ora quindi la figura dell'artista non è più effettivamente la nostra riflessione si è in qualche modo anche ehm ha ha maturato anche questa evidenza. L'artista non è più soltanto la cosiddetta ciliegia sulla torta, non interviene soltanto più nella fase finale ma dovrebbe intervenire appunto dovrebbe essere chiamato anche in una fase preliminare ad interrogare lo spazio, a suggerirne una visione più empatica e più autentica e spesso anche libera da funzionalismi e da verticismi. Ehm ovviamente l'occasione più vicino a noi è quella che nell'ambito degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza con il PNRR eh riguarda più appunto riguarda la rigenerazione culturale, sociale ed economica non solo dei borghi storici ma anche appunto dei territori, delle aree periferiche come dicevamo ehm a cui però dovrebbero essere affiancati appunto delle non soltanto delle buone pratiche ma degli indirizzi e delle azioni che siano in grado di coinvolgere le comunità ehm anche attraverso pratiche di coprogettazione eh e quindi contribuire alla rigenerazione non solo infrastrutturale ma anche umana eh e eh quindi affrontare quelle fragilità che sono oggi visibili a tutti in diciamo nei nostri territori. Ecco in questa giornata eh diverse sono le questioni eh che verranno sollevate. Per esempio eh come ripensare allo spazio pubblico dal punto di vista relazionale? Quali criteri attuare nel riuso degli spazi sottratti alle mafie e restituiti alla collettività? Di questo ci parlerà Valentina Sansone che affronterà un tema anche scomodo eh da questo punto di vista. Ehm quali logiche quali pratiche dialettiche e o pedagogiche ehm le amministrazioni e le istituzioni pubbliche potrebbero intraprendere per una progettazione condivisa e realmente autenticamente partecipata dello spazio. Claudio Musso affronterà appunto il tema eh delle delle rotatorie facendo riferimento a quella sorta di tensioni urbane che Michele Ceruti Butte nel suo intervento eh sottolinea. Ehm e che eh appunto eh dice di essere diciamo di in qualche modo eh di ehm sia necessario per comprendere sia non necessario per comprendere le trasformazioni della città. Eh poi affronteremo il concetto della performatività che è capace di innescare nei cittadini una connessione con il luogo, con il tempo e e e con il soggetto e di questo ci parlerà Gabi Scardi. Infine ehm come operatori culturali non possiamo non chiederci quale sia il ehm ruolo assunto dalla ehm nella ridefinizione delle relazioni fra produzione artistica, partecipazione della comunità e utilizzazione e utilizzo dello spazio pubblico. In che modo i musei possono diventare dei dispositivi di relazione ehm eh che eh riconfigura appunto una nuova progettualità. Eh Emma Zanella e Alessandro Cassiglioni eh ci danno appunto una prospettiva da questo punto di vista soprattutto eh nella implementazione delle collezioni pubbliche eh da parte appunto di un museo. Ehm adesso lascio la parola ad Alessandra Pioselli e vi ringrazio ancora per eh partecipare a questa giornata, a questo importante e prezioso momento di condivisione. grazie. Grazie Laura, grazie a tutti, mi unisco naturalmente ai ringraziamenti che già Laura Barreca vi ha posto. Eh io voglio partire da lontano poi tutti i temi che Laura con grande precisione ha elencato saranno ripresi nei vari tavoli e nell'ultimo tavolo l'uno febbraio peraltro affronteremo proprio il tema della committenza civica e della città dell'attivazione delle cittadinanze in processi partecipati in relazione alle territorialità. Eh voglio qui però oggi ricucire e restringere il campo verso la parola spazio partendo da una domanda appunto quale spazio e eh come concettualizzarlo? E mh parto da lontano, da Moro, Tommaso, ma per arrivare brevemente poi ai giorni nostri perché Tommaso Moro come sappiamo scrive che nell'isola di eh Utopia le città sono talmente simili tra loro compatibilmente con quello che è l'ambiente naturale del luogo che chi ne conosce una le conosce tutte e pertanto può descriverne una per parlare di tutte e la forma eh di questa città e gli dice è quadrata, le piazze sono progettate in modo da rendere agevoli i trasporti, le facciate delle case sono allineate e quindi è una città dettata da misure geometriche eh lunghezze, larghezze, da chiarezza di funzioni, eh un principio superiore d'ordine eh infonde eh a questa città un'immagine cristallina eh euritmica, armonica, simmetria, proporzione, equilibrio e terre razionalmente distribuite, dice ancora Moro, dividono questa città da tutte le altre che sono ad essa uguali. Noi però sappiamo che lo spazio eh la concettualizzazione dello spazio che ereditiamo dal pensiero moderno e contemporaneo ehm eh ci dice che lo spazio è eh invece striato, cangiante, eteroclito, fatto di corpi, accidenti, anfratti, eh fessure, discrasie, eccentricità, assemblaggi, tensioni per l'appunto e anche differenti temporalità. Eh Richard Sennett parla del dell'eteroglossia come condizione dell'assite e quindi della necessità del progetto e eh aggiungo del progetto anche d'arte di eh mantenere e alimentare tale eteroglossia eh in termini anche proprio di eh di diversità. Eh questo tipo di spazio eh il progetto non lo può attraversare leggere eh in orizzontale perché non è misurabile, non è una superficie dove tutto è esposto, dove tutto è immediatamente visibile e percepibile eh e ce lo spiega bene eh a lei da Asman quando dice che eh dopo aver esplorato e utilizzato gli spazi in orizzontale rimane da esplorare la loro profondità simbolica in verticale. Eh gli spazi nel senso della terra calpestabile e sono esplorati, misurati eh colonizzati, annessi, collegati, invece i luoghi di cui si può esplorare la profondità continuano a mantenere un mistero. Eh possiamo ehm parlare di possibilità invece che di mistero e di luogo invece che di spazio in quanto la eh concettualizzazione anche complessa e problematica di luogo è forse privilegiata rispetto al termine eh di spazio che ha comunque una sua storia legata poi appunto anche un principio di eh di astrazione. Luogo della memoria, luogo del vissuto, luogo dato anche da quelle eh complesse tessiture sociali di cui il progetto deve tenere conto in modo interconnettivo e anche ecosistemico. Eh veniamo all'Italia e all'attualità eh PNR eh R che Laura Barreca ha già citato eh sappiamo che nelle linee di programma eh particolare le linee sui borghi prevedono anche fondi per il restauro eh del patrimonio storico architettonico, la riqualificazione degli spazi pubblici, il riuso di immobili e spazi pubblici, pensiamo però a una progettualità ecosistemica dove per l'appunto anche la riqualificazione o il restauro architettonico sia interconnesso con le funzioni socioculturali che poi quei luoghi vanno a ehm ospitare sia con il contesto territoriale e con le comunità abitanti e qui pone eh una prima domanda che eh avevamo peraltro anche un po' discusso ed elaborato nei documenti col tavolo uno anche con Stefano e Boccalini e Costanza Medi che mi fa piacere citare perché con loro avanzavamo un po' questa riflessione cioè in che modo l'artista può contribuire a risignificare e a disegnare nuovi spazi e funzioni con particolare attenzione a usi pubblici perché quel recupero eh di cui eh questi bandi, programmi parlano invita a riflettere sulla possibilità delle nuove significazioni e in questo percorso l'artista può eh giocare eh un ruolo fondamentale proprio nell'accompagnamento dei contesti di riferimento verso eh possibilità e percorsi di sviluppo al cui centro ci siano le persone eh e le relazioni così avevamo ehm anche proprio scritto nel in questo documento preparatorio. Questo ci pone poi eh altre questioni che voglio così elencare sono più che altro domande. Eh ehm spesso l'artista eh è chiamato alla fine dei processi Laura Barrecca diceva la ciliegina della sulla torta e di fatto spesso è ancora così in grandi e piccoli programmi di trasformazione urbana si concludono eh spesso a volte con la collocazione di opere d'arte ma l'artista arriva quasi sempre alla fine dei giochi quando la tavola è già apparecchiata. È possibile prevedere un coinvolgimento a monte quando i processi sono ancora aperti in fieri affinché l'opera sia appunto processo non sia quella ciliegina sulla torta ma un percorso critico di coprogettazione della dimensione pubblica dello spazio. Questo pone però altre questioni eh qual è eh lo spazio anche del della dissonanza della discordanza cioè di una possibilità dell'arte critica non consensuale rispetto alle azioni di governo del territorio quali sono le potenzialità dell'arte nello smuovere procedure e visioni standardizzate eh forse a volte anche passatemi la parola per così dire normalizzatrici in termini funzionalistici intendo. L'artista in questo ma eh anche il curatore anche nel suo ruolo di mediatore ha una responsabilità che è etica nel senso weberiano del termine cioè deve essere consapevole delle conseguenze del proprio agire consapevole del contesto in cui si agisce ma anche consapevole di quelle forze e anche di quelle di quei poteri anche di tipo politico ed economico che si esercitano sullo spazio eh dei gruppi di interesse che lo plasmano e che si contendono anche simbolicamente la sua gestione il controllo implicito o desplicito che sia e per questo parole come miglioramento rigenerazione empowerment che spesso noi usiamo sono anche parole trappola perché a favore di chi parlo a nome di chi parlo ehm eh a fa in che in che senso in quale direzione sto parlando perché ehm mi piace qua citare ehm ciò che aveva scritto nel duemiladodici credo Pablo Elguera artista ed educatore che diceva che ci ricorda che l'arte è una metadisciplina che modifica le altre discipline e quindi ecco qui lo spostamento anche delle procedure delle visioni consolidate portandole in un territorio di esperienza ambiguità contraddizione e criticità appunto non chiarezza pacificazione e consenso ovvero l'artista non ha ruolo ordinatore dell'architetto di eh utopia non è un normalizzatore eh un'ultima ehm nota eh per arrivare poi alla fine ehm pensiamo anche alla spazialità come una competenza che gli esseri umani acquisiscono non c'è la capacità di orientarsi il proprio corpo poi in rapporto eh agli altri corpi e allo spazio ma la coscienza di luogo è qualcosa di eh profondamente diverso ehm e quella coscienza e mi riferisco qui a ciò che scriveva Alberto Magnaghi eh ormai più di vent'anni fa all'incirca come proprio consapevolezza che si acquisisce eh che si acquisisce attraverso un processo di trasformazione culturale degli abitanti del valore dei beni comuni territoriali eh Alberto Magnaghi qui eh cito sto leggendo ciò che scriveva nel eh progetto locale eh la possibilità di agire nuovamente eh l'arse edificandi dei luoghi cioè la costruzione di luogo in quella direzione eh che di cui parlava eh Laura si pone innanzitutto come percorso di riappropriazione individuale collettiva di saperi di memorie di culture locali e eh Magnaghi aggiungeva che che si tratta in primo luogo di un movimento culturale per poter avere cura dei luoghi è necessario saperli vedere saperli riconoscere saper interpretare i valori le regole riproduttive identità profonda queste parole rimandano alla complessità di quel luogo che vogliamo per l'appunto fatto anche di contraddizioni di differenti temporalità di 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 densità eh e di mh di tensioni eh e ci eh dicono di un progetto artistico di un'idea di progetto come quella possibile dimensione relazionale ed interconnettiva eh di creazione attraverso il progetto di messa di messa in comune di quei valori e di quei significati dai quali poi parte il percorso di riconoscimento e riappropriazione e qui dentro questa cornice può ehm di 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 riferimenti può collocarsi un'idea di arte pubblica contemporanea riferimenti che poi vanno alla convenzione europea del paesaggio alla convenzione di faro si amplinano alla questione costituzionale dei diritti e il diritto al paesaggio e anche per chiudere a quell'idea che ci arriva dal giurista Paolo Maddalena del territorio come ehm bene comune quindi spazio, luogo, paesaggio e territorio è chiaro che hanno una propria ontologia e anche eh sfere di riferimenti giuridici diversi però si innanellano come dimensioni problematiche del dell'agire e come cornice di riferimento nel quale può trovare significato un'arte pubblica che lavora in modo interdipendente e coevolutivo con i contesti eh in cui opera. eh qui mi fermo e mh ricedo la parola a Laura Barreca e eh ai nostri partecipanti a cui do un caloroso benvenuto. Grazie. Grazie Alessandra. Io immediatamente cedo invece la parola al professore Claudio Varagnoli che è qui con noi e quindi eh do il benvenuto. Grazie, molte grazie, molte grazie. Anch'io ringrazio gli organizzatori per l'invito e per la organizzazione proprio molto interessante, molto stimolante e già gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo diciamo un po' la 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 direzione, hanno indicato già la direzione alla quale poi si svolge anche il mio intervento. eh sono architetto eh ma non mi sento normalizzatore perché mi occupo di mh restauro cioè di eh gestire, governare o più che altro ascoltare quello che il passato non ha capito, non ci vuole trasmettere oppure noi non lo capiamo. insomma lì esce fuori la difficoltà, la profondità a cui c'erano giustamente prima Alessandra Pioselli. E allora mh eh svolgo ormai da qualche anno eh la carica di presidente del comitato tecnico scientifico per arte e architettura contemporanea e eh in questa veste eh ci siamo trovati molto spesso a trovare a discutere anche appunto di eh casi eh di conservazione di opere di arte e di architettura contemporanea sulla quale poi parleremo. ma questa partecipazione ha ovviamente attivato tutto un ehm interesse particolare per le relazioni che ultimamente sono sempre più forti tra eh il portato dell'artista contemporaneo e il contesto nel quale questo intervento si situa. e allora ehm volevo ehm iniziare il nostro discorso con alcune immagini. Allora ehm volevo iniziare questo breve discorso di questa relazione eh tra mh creatività contemporanea e contesto nel quale questa si inserisce facendo un un omaggio a Joseph Voice per varie ragioni. primo perché mi trovo a lavorare da molti anni in Abruzzo e secondo perché mh a mio avviso la partenza proprio è stata richiamata anche poc'anzi di rapporto stretto, forte, etico con il territorio. non può che trovare un punto di riferimento nella nell'opera di Voice ehm sia soprattutto per le sue azioni a Bolognano nelle quali appunto eh viene anche richiamato il ruolo della della partecipazione eh del pubblico degli degli abitanti di questi luoghi sia proprio per il riferimento concreto alla eh concretezza delle della della natura. ehm un'arte eh che a mio avviso è pubblica eh comunque anche quando è al chiuso di una eh in situazione museale proprio perché implica un costante riferimento alla responsabilità nei confronti della natura e alla nostro coinvolgimento con la la terra proprio in quanto suolo in quanto materiale sul quale e con il quale ci troviamo ad agire. questo portato di Voice eh probabilmente ha avuto poi lunghe eh filiazioni anche nell'atteggiamento eh più recente ma mi interessava in questo come architetto e come ehm persona che eh si trova a confrontarsi con un mondo così eh moltiforme e così eh variabile come quello della dell'arte contemporanea. ehm trovo molto interessante la ehm l'accentuazione di questa estetica relazionale eh avanzata da Nicolas Bourriot negli anni novanta che ehm qualche modo spostava ancora di più l'accento proprio sul pubblico sulla partecipazione delle di esseri umani di corpi di presenze di cibo ehm come accade in molti degli artisti che hanno lavorato con lui e come in molte esposizioni anche alla palè di Tokyo quindi eh in questo caso questa eh attenzione allo spazio si sposta anche e soprattutto direi in qualche ehm in molte delle situazioni tratteggiate proprio alla presenza di corpi e di persone che ehm eh costituiscono l'attenzione dell'artista. e qui mi veniva in mente anche ehm il rapporto con il paesaggio eh giustamente come bene comune ricordo anche le eh i penetrantissime osservazioni avanzate da Mattei proprio all'inizio di questa d'Augo Mattei all'inizio di queste di queste ragionamenti sui beni comuni e chiaramente anche la l'opera di un grande come come Cristo eh si si è evoluta proprio in questa apertura mh forte alla land art anche qui con la partecipazione della della del pubblico in questo caso a mio avviso l'opera d'arte era proprio l'interazione che eh si riusciva a stabilire tra una grande massa di visitatori e questa liquidità ehm onnipresente che circondava appunto i visitatori proprio come dimensione del pari artistico e quindi come apertura in questo caso al paesaggio. come pure eh mi sembrava un altro tratto interessante della riflessione artistica degli ultimi degli ultimi vent'anni eh fatalmente ancora una volta il rapporto molto stretto con l'architettura quindi abbiamo visto da un lato un rapporto con la natura molto particolare un rapporto relazionale con il la presenza umana e con lo spostamento sugli attori spettatori e un altro aspetto anche molto forte con l'architettura. questa che per forza di cose è il tema che in qualche modo viene proposto agli artisti che si occupano di inserimento in uno spazio pubblico. Qui c'è l'allestimento all'altrino triannale di Milano del 2016 se non sbaglio con Nicola Di Battista come curatore e che giocava proprio sulla interazione integrazione ma anche dissonanza e vedremo meglio come questo discorso è un discorso a mio avviso fondamentale. del rapporto tra artista e spazio e giocando appunto sulla ehm dialogo o anche non dialogo in qualche modo tra eh artisti e architetti contemporanei cipro e filo con pistoletto, dei lucchi con cucchi e così via fino a Francesco Venezia con Ettore Spalletti. ehm tema che poi si è aperto e ha in qualche modo rinnovato anche eh un altro grande argomento che sicuramente dovrà essere trattato in in questi giorni cioè il tema del il ruolo del pubblico eh è stata richiamata giustamente la convenzione di Faro che voi sapete è stata ratificata eh dall'Italia con molto ritardo ancora eh probabilmente con alcuni aspetti che devono essere conclusi ma la convenzione di Faro era interessante proprio perché individua una comunità patrimoniale di riferimento cioè non posso pensare ad un patrimonio da difendere da gestire da conservare se non penso anche ad una comunità a una comunità a cui questo patrimonio è legato e fa riferimento e ehm convenzione ancora fino a qualche anno fa poco eh presente nella azione progettuale italiana a tutto campo oggi comincia a essere ehm più fortemente richiamata anche nell'operato nell'operato di alcune soprintendenze anche con la partecipazione di alcune università qui richiamo una prima attuazione che venne che si tentò per l'arsenale di Venezia con un richiamo anche alla comunità ehm appunto patrimoniale di riferimento degli arsenalotti dei mastri d'ascia eh che avevano comunque lasciato una loro tradizione nelle famiglie ma eh mi in questo quadro di ampliamento della del raggio d'azione del dell'artista e del del suo nuovo orizzonte d'attesa nel quale si inserisce vorrei richiamare anche alcuni contributi teorici questi più strettamente legati al restauro ma che sono fortemente attinenti al tema che oggi trattiamo eh in primis soprattutto il testo di Salvador Mugno Svignas sulla teoria contemporanea del restauro che ehm inserisce batte proprio su due tasti ehm predominanti il concetto di rivoluzione copernicana che non è nuovissimo nel settore ma insomma in qualche modo pone eh la 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 il pubblico al centro dell'azione del restauratore ma eh e con l'attenzione che questo restauro è rivolto non tanto eh nella nella in questa teoria ai mh testi agli oggetti ehm riconosciuti e consolidati dalla tradizione storiografica ma anche dagli oggetti banali dagli oggetti modesti e con Mugno Svignas che assume eh ruolo di ehm riflessione alta anche il trattamento del degli anti di le vecchie le vecchie fotografie di famiglia dei giocattoli degli oggetti appunto che contornano e costruiscono il nostro orizzonte quotidiano ehm tema della rigenerazione urbana a cui accennavo che ultimamente conosce vari ehm varie mh attuazioni qui richiamo una attuazione recente abbastanza funzionante ben riuscita ehm dal punto di vista della partecipazione tra pubblico e artista in questo caso è Franco Summa in una piazza dimenticata eh in una zona abbastanza periferica eh di Pescara totalmente degradata con inserimento di alcuni eh oggetti tipicamente afferenti alla ricerca artistica eh dell'autore e ehm qui dove abbiamo altre vedute con una fruizione e accettazione da parte del pubblico qui c'era un pubblico molto motivato che è stato eh diciamo costruito che ha costruito un percorso proprio di vicinanza al progetto dell'artista ma richiamo anche una tendenza molto forte in molti artisti contemporanei che è quella della della vicinanza anche al tema della rovina dell'incompiuto della lacuna e qui poi vedremo meglio eh alcuni episodi a mio avviso interessanti cioè in questo è Massimo Bartellini Bartolini in una installazione a a Parma di qualche anno fa ehm la capacità appunto di sondare di sondare e di individuare proprio nei tessuti lacerati nelle lacune nelle parti mancanti possibili discorsi da costruire da portare avanti in questo caso ehm fortemente accettabili dal punto di vista ehm della conservazione in quanto si tratta poi di eh installazioni che eh permettono diverse letture ma non eh interagiscono direttamente con la materialità del dell'oggetto che che trattiamo. e nel nostro settore eh quando poi si parla di interazione tra processo artistico e e conservazione di di ruderi o scavi è molto forte in questi ultimi anni la il ciclone rappresentato dalla presenza di e dall'operato di Edoardo Tresoldi sia in questa opera ormai notissima per Santa Maria di Siponto presso Foggia dove usa questo ehm trama di trama di cavi d'acciaio ma senza dimenticare le sue origini eh di artista in qualche modo legato anche alla street art al pop e mh molto anche criticato di alcuni miei colleghi ma per il mio avviso molto interessante perché è veramente ehm una riproposizione di un tema non didattico non didascalico ma eh che che in qualche misura cerca di recuperare il senso della ricostruzione ma attraverso altre lettere attraverso altre modalità ehm ehm tema questo di una reintegrazione in qualche modo volumetrica ma ehm molto molto vicina appunto proprio alla 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 temperio culturale dell'artista ehm vediamo per esempio la differenza con una opera che in qualche misura è stata un po' la progenitrice di questa tendenza la la ricostruzione del Tempio di Volaveglio fatta molti anni fa ma con maggiore didascalità come dire maggiore atteggiamento didattico scusatemi e e e chiaramente però la differenza con le le due opere è molto è molto forte qui abbiamo anche una vicinanza a certi effetti dell'arte eh e della comunicazione attraverso il computer. ehm tendenze che adesso Tresolti sta portando avanti molte altre ehm situazioni e ricordo per esempio questo ehm installazione nel parco eh Artesella ehm nel nel Trentino dove viene costruito uno spazio mai esistito con eh anche l'inserimento di di eh gabbioni metallici con ciottoli proprio per qualche misura proprio ricreare e riportare all'interno del processo artistico questa rovina da cui si era partiti e ehm questa forte integrazione eh con le il costruito la troviamo invece in altri artisti eh anche molto interessanti proprio per questo concetto di di contesto David Tremlett qui a a Peccioli ehm dove poi anche eh propone una grande intervento di riuso e di riciclamento ecco 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 ec Oggetti dimenticati come le piccole cappelle nei pressi di rossa che sono state appunto trattate negli interventi di Tremlett con questo wall drawing, con questa tecnica particolare di risignificazione che in qualche modo le riporta all'attenzione. Ecco, ritrovare oggetti dimenticati e riproporli. Credo che questo sia uno dei grossi obiettivi che l'artista contemporaneo può porsi anche nell'ambito di queste iniziative come il PNRR. Ma volevo segnalare anche un ruolo molto importante a mio avviso nel caso delle cosiddette memorie negative, cioè di memorie che suscitano quei conflitti e quelle differenze, quei distacchi, quei drammi che costellano la nostra storia al di fuori di qualsiasi tentativa di normalizzarla. E richiamo il caso interessantissimo di Christian Boltanski nella installazione della Grossenburger Straße a Berlino dove la mancanza, la lacuna, quella che tecnicamente sarebbe una lacuna e non certo in un patrimonio storico ma in un contesto del tutto urbano e quotidiano, quella che sarebbe la lacuna diventa un segno doloroso di un'assenza ed è questa assenza che viene sottolineata e portata alla nostra coscienza dai nomi delle persone deportate che abitavano in quel caseggiato ormai scomparso. Trovo che questa segnalazione dell'assenza sia un tratto, una capacità abbastanza rilevante dell'artista contemporaneo. Vorrei richiamare anche la sistemazione pensata da Olsknecht e Bernardi per l'ex Casa del Fascio, poi Palazzo delle Finanze di Bolzano, con il depotenziamento del Fregio Mussoliniano. Qui a mio avviso la soluzione trovata sapete che ha gestato molte polemiche prima e dopo ma coglie molto bene il significato di agire su un contesto esistente cercando di segnalare la diversità della nostra lettura e la consapevolezza del dramma che questo passato ha comportato senza però poi materialmente intervenire in questo quasi recependo alcuni dei principi fondamentali della teoria classica del restauro. Richiamo anche qui un ritorno alla dimensione locale, che cosa ci si aspetta dall'arte contemporanea negli interventi su centri storici. Richiamo qui appunto anche un esito delle ricerche fatte dalla Fondazione Menegaz su Castelbasso e su altri centri dell'Abruzzo, ma vorrei ricordare un intervento messo in atto sul piccolo centro abbandonato di Buonanotte, che è un borgo situato in una collina franosa già da tempo abbandonato dai propri abitanti, che si sono trasferiti in un paesino a valle, in un borgo a valle e case anche interessanti sono state completamente dimenticate. Allora qui c'è stata una collaborazione tra architetti formati alla nostra scuola di Pescara e artisti come Marsiglia, Pignatelli e Artan, con la cura di Maria Letizia Pagliato, che hanno prodotto una serie di interventi puntuali che da un lato richiamano alcune funzioni caratteristiche dei borghi storici, la porta d'ingresso, l'apertura al paesaggio, il riflesso del paesaggio nell'opera stessa, e quindi appunto l'apertura al contesto, questo è l'intervento di Schalsi, e dall'altra segnalano anche le assenze, ancora una volta, le mancanze, come atto doloroso, come atto di rottura, ma anche in qualche misura come tentativo di ricuscire, di riprendere, riconferire senso a queste mancanze, a questi vuoti. E in ultimo anche il riconoscimento del paesaggio, questo tema dell'interazione tra centro storico, borgo antico e paesaggio, ecco qui con il caledoscopio di Marsiglia e il paesaggio che guarda verso la magliella. E qui vedete alcune altre immagini che dichiariscono meglio il senso dei luoghi edifici che continuano ad essere abbandonati, e questo ha richiamato un gran numero di visitatori, con la partecipazione anche dell'ente regionale, ovviamente dell'amministrazione municipale, e già ha contribuito in maniera abbastanza significativa a risollevare alcune possibilità di impiego per gli abitanti del posto. Concludo velocissimamente perché penso che già stiamo nei tempi, non so se Laura e Alessandra possono confermarmi, volevo soltanto richiamare la nostra attività, ma lo faccio soltanto in chiusura, insieme ai colleghi Barreca Canfora, Tamborrino, sia al dottor De Chirico e all'architetto Maggi, l'uso della legge 633 sul diritto d'autore impropriamente utilizzata ai noi per difendere opere d'arte e architettura contemporanea, ma è l'unico strumento che tutto sommato ancora si può utilizzare, ma è uno strumento che fatalmente finora sfuggiva un po' al rapporto con la materia, e cercava, e in qualche modo porta sempre a dare importanza al progetto, all'idea, al momento di pensiero che sottende l'opera, quindi a titolare il progetto, sia esso artistico, architettonico. Allora, soltanto un cenno, il caso del Vatican Chapel della Piennale di Venezia del 2018, è stato riconosciuto l'importante carattere artistico che fa scattare poi la tutela da parte degli autori degli stessi padiglioni, che ricorderete sono nell'isola di San Giorgio, ma la nostra attenzione si è rivolta soprattutto a richiedere che sia tutelata non solo alla singola opera, ma l'intervento deve per forza estendersi anche sul contesto del parco, perché è inteso come un antico, un sacro monte, quindi con una sua organicità, e alla cura della vegetazione. Quindi insistere, qui c'è il padiglione, e con questa immagine vorrei chiaro fermarmi, di Carla Giussaba, una ottima architetta, ma come vedete con forti tendenze alla concezione proprio artistica, senso lato, ecco, rimandare continuamente il riconoscimento dell'opera e del presente, sempre e comunque ad un contesto che ne giustifica, ne permette soprattutto la condivisione e ne rende poi possibile anche il futuro una comprensione più corretta e più in linea con gli intendimenti originali. Benissimo, molte grazie. Grazie professor Baragnoli, grazie davvero di questo intervento così interessante, soprattutto ricchissimo di rimandi normativi che per noi, diciamo per tutti, sono importanti proprio perché mettono insieme questi tavoli di lavoro, le plenarie, in modo frattalico stanno mettendo insieme diverse prospettive e posizioni, quindi è tutto arricchente da questo punto di vista. Dare la parola adesso a Michele Cerutibut, con il suo intervento Tensioni urbane, ripensare allo spazio pubblico dal punto di vista relazionale, perché anche lui possa raccontare, attraverso appunto dei casi, riferimento appunto a dei casi di studio, il tema del ruolo dell'arte nei processi di trasformazione spaziale o come è stato detto di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile. Grazie Michele, prego a te la parola. Grazie Laura, grazie per essere qui intanto e per queste giornate che trovo estremamente rilevanti in questo momento storico specificamente. Nel momento in cui noi parliamo di arte e spazio pubblico, una delle prime cose come sempre, secondo la tradizione occidentale, soprattutto italiana, è perlomeno chiedersi che cosa vogliono dire le due parole che sono in discussione. E lo faccio dal punto di vista dell'urbanistica, io sono un urbanista insieme al Politecnico di Torino, oltre a coordinare l'Accademia Unitee della Fondazione Pistoletto, e a partire dall'urbanistica e a partire da delle ricerche che abbiamo svolto con un gruppo di ricercatori dell'urbanistica e dell'architettura tra Politecnico di Torino e di Milano, in particolare mi fa piacere nominarli naturalmente per conoscenza, Cristina Bianchetti, Anira Vassallo, Giulia Setti e Tim Kerciuk, e altri, però diciamo soprattutto loro, per cui dal 2014 abbiamo lavorato su questo tema e su altri, e sempre un po' chiedendoci che cosa sia oggi lo spazio pubblico. L'obiettivo è duplice, è quello di aiutare da una parte gli artisti, le pratiche artistiche, dall'altra l'intenzione di regolamentare, di regolare o di favorire, anche attraverso una disposizione normativa, la relazione tra arte e spazio pubblico, perlomeno per cercare, se non di ampliare lo sguardo, ma per provare a cambiare il punto di vista attraverso cui si guarda lo spazio pubblico, in particolare lo spazio pubblico. Passerò anche in qualche modo dalle forme dell'arte impegnate nello spazio pubblico, ma più come sfondo, perché mi pare necessario in questo momento focalizzarci e capire bene, insomma, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di spazio pubblico. Perché? Perché questo tempo, il tempo di Nice Time, di questo straordinario, è il film del 57, in cui questi due registi svizzeri, Claude Gorettà e Alan Tanner, descrivono 25 weekend prima dell'ingresso agli spettacoli di Piccadilly Circus attraverso questa sequenza molto famosa, in cui si vede uno spazio pubblico, che è lo spazio pubblico abermasiano, quello che rende visibile l'istituzione politica, lo spazio di cittadinanza, dello scambio interpersonale, fatto di gesti, parole, stretti di mano, sguardi, andamenti, che si incrociano, che si allineano, uno spazio dove serve un codice, un regolamento sociale, ecco, questo spazio pubblico non è tanto vero che non esista più, ma sicuramente non è l'unico modo di essere dello spazio pubblico contemporaneo, cioè proprio di quello spazio in cui lavoriamo come artisti e in cui immaginiamo di pensare di regolare quella stessa produzione che abbiamo visto anche nell'intervento che mi ha preceduto. Questo spazio qui non è più uno spazio così frequente, lo spazio delle proteste, c'è naturalmente, ma non è l'unico, non è più solo lo spazio in cui si poteva occupare la triennale. Pensate che cosa potrebbe voler dire oggi occupare la triennale? Quello spazio era uno spazio pubblico, oggi non è così semplice immaginare di occupare la triennale. Allora è cambiato qualcosa quello spazio. Non è neanche più solamente quello spazio di moto urbano, sono molti che hanno caratterizzato gran parte del dibattito urbanistico sui studi urbani del Novecento. Pensiamo alle Fevro, ad altri diritti della città, tutti i David Harvey e questi straordinari pensatori del Novecento. Ma non è più tanto lo spazio di quei moto urbani. Le violenze, i conflitti ci sono, ma hanno forme diverse, perlomeno nell'Occidente, perlomeno in Italia. Le violenze, i conflitti si ridefiniscono secondo altri criteri, secondo altri principi. Proveremo un po' a esplorarli e cercare di capire. Il punto è questo. Mi pare che oggi si possa dire che la definizione di spazio pubblico è sfuggevole, perlomeno in Europa, perlomeno in Italia, rispetto a almeno due punti. La problematicità della difficile precisazione neoliberista di regimi di proprietà, di chi è lo spazio che stiamo abitando. Ma anche per quanto riguarda la possibilità di codicluso, gestione di cura degli stessi spazi. Chi se ne prende cura, chi li gestisce, chi li governa, chi li amministra. E qui si apre, come sappiamo bene, tutto il dibattito intorno alla sussidiarietà, alle forme più o meno integrate, più o meno negoziali di cura dello spazio, che però si portano sempre dietro un rischio di egemonia culturale, di neocolonialismo. Spazi come Piazza Gaulenti a Milano, è uno spazio privato, non è uno spazio pubblico. Eppure lo consideriamo uno spazio pubblico, ma c'è qualcuno che ha delle regole diverse in quello spazio, in cui noi non possiamo fare il bagno in quelle fontane. Ma anche degli spazi come quelli, per esempio, degli orti urbani, che ci sembrano un'estremizzazione dello spazio pubblico, ma che al di là dei giudizi, di merito, non mi interessa entrare in questo senso, così direttamente su questo aspetto, ma certamente non sono uno spazio di tutti, perché quello spazio diventa lo spazio di alcuni. E dal punto di vista, se vogliamo, estetico, prendendo la parola dimensione estetica, al più alto delle sue possibilità, naturalmente ci sarebbe un dibattito piuttosto ampio da fare intorno a queste pratiche, ma anche interventi come quelli pubblici, pubblicissimi, come l'urbanistica tattica che abbiamo visto a Milano appena dopo l'inizio della pandemia. A un certo punto l'istituzione decideva che una piazza, che uno spazio, a partire da un piano che avevano fatto, ma che non era così condiviso, poteva cambiare completamente. E quello spazio cambiava radicalmente l'uso in funzione di segni o elementi più o meno temporanei o più o meno permanenti. Quello spazio di chi è? Allora, se anche l'istituzione pubblica può decidere a un certo punto di cambiare completamente, senza ragionare veramente in maniera profonda, in maniera radicale, su la ridistribuzione del valore di quel luogo rispetto alla cittadinanza che rappresento. Di nuovo, non mi interessa criticare questa, in quell'altra posizione, ma osservare quello che sta succedendo per capire fino a che punto oggi possiamo ancora parlare di quello spazio pubblico che è quello che tutti ci immaginiamo, cioè lo spazio pubblico di tutti, lo spazio di Abermas fondamentalmente, quello della sfera pubblica, che si concretizzava, si materializzava in quello spazio fisico delle piazze, dei marciapiedi, delle strade. E ancora abbiamo visto come lo spazio pubblico, a un certo punto c'è qualcuno che ci ha detto che durante la pandemia lo spazio pubblico erano diventati balconi. Cioè una specie di abominio, perché il balcone è l'esternalizzazione della casa, cioè della dimensione più privata che ci sia. E allora ci si immaginava, molte pratiche anche artistiche, si immaginavano di lavorare con pratiche di arte pubblica attraverso i balconi. straordinarie iniziative, straordinarie pratiche, però dobbiamo sapere che questo non è uno spazio pubblico, perché nel momento in cui qualcuno decide di chiudere quel balcone, quel balcone non è più uno spazio di tutti, ma torna ad essere uno spazio privato. Allora, il punto è questo, come vivere insieme. Roland Barth, una conferenza straordinaria al Collegio de France, una serie di lezioni al Collegio de France, ragione intorno a questa domanda, come vivere insieme, in che modo abitare insieme, in che modo stare insieme. Lo spazio pubblico è soprattutto questo, certamente soprattutto questo. Quello che abbiamo cercato di fare in questa ricerca è cercare di capire in che modo fosse possibile definire, ripensare lo spazio pubblico, non tanto dal punto di vista di chi se ne prende cura, gli attori dello spazio, e neanche dal punto di vista della proprietà, di chi è questo spazio, per cui è possibile definire dei confini più o meno rigidi, ma a partire dal modo in cui in quello spazio pubblico si abita, dal modo in cui in quello spazio pubblico si sta in relazione. E ci siamo accorti che ci sono almeno tre diverse declinazioni di quello stare insieme. Dico almeno perché poi in realtà sapete che le modalità di relazione sono così complesse, così amiche, che mettono in corpo il corpo e qui ci sarebbe tutto un grande ragionamento da fare sulla ridefinizione dello spazio pubblico a partire dal corpo in sé che noi abbiamo però provato a guardare soprattutto dal punto di vista appunto relazionale. Tre declinazioni. Perché tre? Perché una è quella tradizionale, quella dello spazio pubblico di tutti, dello spazio pubblico che abbiamo visto. Allora lo spazio pubblico è ancora pubblico, è ancora una dimensione di tutti, è ancora una dimensione di protesta, di lotta, di definizione dell'istituzione politica, di scambio di cittadinanza, eccetera, eccetera. Ma insieme a questo ci sono altre forme dello stare insieme, altre forme relazionali che definiscono spazi pubblici in qualche modo privati. Ovvero, a partire da una definizione che quella che in Italia è portata da Piero Luggi-Croxta, ovvero lo spazio eluso che se ne fa. Non si ragiona in tanto, tanto più, se non per ragioni burocratiche, amministrative, intorno alla nozione di proprietà quanto piuttosto alla nozione di uso. Cioè uno spazio è più o meno pubblico in funzione dell'uso che gli abitanti, che la cittadinanza, che chi lo attraversa ne fa. Ecco, a partire da questa definizione di uso, oltre alla definizione di pubblico, di spazio pubblico, pubblico, c'è una definizione di spazio pubblico che noi abbiamo mutuato dalla psicologia, dalla canna, che è quella che ragiona sul concetto di intimità ed extimità. Cioè l'idea è che, l'idea, o meglio, quello che abbiamo osservato in molti casi, questa foto, è uno spazio alle grotti a Ginevra, in molti casi, gli spazi cosiddetti pubblici, sono in realtà spazi che sono utilizzati da pochi, da alcuni, oppure in maniera quasi privata, individuale, ovvero sono spazi che più che pubblici ragionano intorno a una dimensione intima o una dimensione di extimitenti, è proprio la dimensione del piccolo gruppo. è più difficile da spiegare teoricamente che da osservare gli spazi reali. Abbiamo provato a fare una ricerca di posto ampio su Torino, ma anche su altri luoghi su Torino, che ci sono alcuni di questi che abbiamo indagato. Ci sono degli spazi, pensate, questo a sinistra è il retro, o meglio, il fianco, il Teatro Reggio di Torino, che sono utilizzati più o meno permanentemente da una comunità di persone specifica. Quello spazio non è di tutti, perché quando anche non ci fossero quelle persone in quel luogo, in quel momento, chi lo attraversa, a meno che non sappia niente di quello spazio, ma chi lo attraversa ha chiaramente la percezione di entrare in uno spazio che non è per tutti, che non è per te, perché è uno spazio abitato, è abitato da altri. Ma a volte sono gruppi piccoli, in questo caso gli scheter, quindi è un gruppo di giovani che costantemente abita quello spazio. A volte sono gruppi più importanti, più più grandi, come per esempio nel caso del quartiere Campidoglio di Torino, quello sulla destra, dove in effetti c'è una comunità, una comunità locale, ma badiamo bene, quella comunità locale non è la città di Torino, ovvero per entrare in quello spazio non è così semplice varcare quella soglia ed entrare in una dimensione che è una dimensione semiprivata, non semiprivata in ragione della proprietà, ma in ragione dell'uso che una comunità di persone fa di quello spazio. Allora, cos'è quello spazio pubblico? Uno spazio che, questo è il Campidoglio di Torino, che cambia nel tempo. Vedete, questi colori aumentano, diminuiscono, questi blu, in funzione di cose che succedono durante il tempo, durante le giornate, durante le stagioni. Che entra nelle case, che entra nei cortili. Uno spazio pubblico che talvolta è l'interno di un cortile, è l'ex piazzale di una fabbrica e la strada, che era il vecchio spazio pubblico, in realtà non è più così rilevante dal punto di vista di queste dinamiche relazionali. Dicevo, uno spazio che cambia in funzione del tempo e degli orari, delle giornate, della settimana. Uno spazio che, per esempio, questo è sempre a Torino, uno spazio di biblioteca, uno spazio dismesso a fianco e dall'altro lato della biblioteca c'è, questa biblioteca costruisce come una specie di recinto e c'è il lungo Po che diventa uno spazio abitato, uno spazio in qualche modo, è uno spazio pubblico diverso, che non è di tutti. E ancora, forme di appropriazione dello spazio che siamo noi su d'Italia con questa faccia di Laura Cacarelli. Ecco, questa dimensione di spazi che si definiscono a partire da un aspetto relazionale dello stare bene tra pochi oppure in maniera individuale che costruiscono quasi delle isole all'interno dei nostri spazi che ampliano lo spazio pubblico ma poi lo riducono a dimensioni più limitate o più ristrette. L'abbiamo esplorata poi in particolare in questa ricerca che ho pubblicato due libri, uno italiano e uno inglese che è uscito pochi giorni fa, in cui ci siamo chiesti se non fosse forse cambiato quello stesso modo di relazionarsi e soprattutto di costruire lo spazio ovvero a partire riprendendo gli aspetti che dicevo prima rispetto ai moti urbani a partire da quella grande forma di protesta di procreazione dello spazio tipica del contesto europeo negli anni 60, 70, 80 anche 90 in qualche modo si è costruito gran parte del dibattito sulla città contemporanea e di impegno vuol dire della cittadinanza delle dinamiche bottom up di tutte le riflessioni che sappiamo che hanno poi guidato anche tutto l'approccio alla partecipazione come forma raffinatissima di esplicitazione del diritto alla città ecco quello che diciamo in queste ricerche che coinvolgono una serie di ricercatori una serie di casi piuttosto ampi in Italia e poi nel mondo è che oggi i modi di costruire la città o di produrre lo spazio per lo meno nell'Occidente non si fondano più tanto su una dimensione conflittuale ma su una dimensione di tensione cos'è la tensione? la tensione è una relazione tra due elementi due o più elementi che rimane in equilibrio proprio perché in tensione cioè nel conflitto a un certo punto c'è qualcuno che vince c'è qualcuno che attraverso la protesta attraverso forme più o meno violente o di più grande più o meno grande lobby dal punto di vista politico istituzionale vince ottiene qualcosa e su qualcuno che perde naturalmente che ci perde qualcosa le forme negoziali piuttosto trasparenti che appunto in gran parte del Novecento si sono solte in maniera tutto sommato violenta quello che osserviamo oggi è che gran parte della produzione di spazio contemporaneo non avviene attraverso logiche di tipo conflittuale ma attraverso logiche tensionali di tensione dinamica di sforzi di equilibri vicendevoli di forze diverse dentro alle comunità tra comunità diverse tra formi di produzione tra addirittura istituzioni diverse lo vediamo anche qui in alcuni casi qua siamo a Prato c'è una comunità produttiva italiana storica che produce un straordinario tessuto di lana di qualità dall'altra parte c'è un'altra altrettanto straordinaria comunità cinese che produce il pronto moda spesso di grande qualità è finito un po' il tempo di quel tipo di pronto moda che siamo abituati a vedere nei media e queste due comunità condividono gli stessi identici spazi gli stessi identici spazi vuol dire non solo le strade e le piazze ma anche le fabbriche ma anche i cortili e questa dimensione di strade di piazze di cortile diventa lo spazio pubblico ed è lo spazio pubblico intorno a cui entrambe queste comunità costruiscono relazioni di tensione non possono litigare non possono entrare in conflitto perché il conflitto annullerebbe la loro possibilità di cambiare quello spazio ma quando noi entriamo in quei cortili e ci accorgiamo che ci sono più comunità contemporaneamente ci accorgiamo che lì dentro c'è una negoziazione informale di quello spazio che fa sì che quello spazio cambi continuamente che venga deformato cresca diminuisca si aggiungano delle cose si tolgano ma la cosa interessante dell'attenzione è che è del tutto non governabile dal punto di vista istituzionale allora stiamo dicendo che c'è una produzione di spazio vediamo tra poco altri casi c'è una produzione di spazio che dipende da dinamiche relazionali che il pubblico non è in grado di governare non è in grado di amministrare eppure sappiamo bene che in questi stessi spazi le pratiche di arte pubblica che ci immaginiamo possano intervenire e possono talvolta favorire mantenere potenziare distruggere annientare quelle tensioni ecco sono pratiche che quanto mai oggi dire il pubblico avrebbe intenzione necessità urgenza di regolare ripensare inquadrare siamo quasi a Torino il caso che è molto famoso della cavalerizza c'è stato un momento nella cavalerizza reale all'inizio soprattutto in cui veramente le dinamiche di produzione di spazio venivano tra forme di tensione che nessuno riusciva a governare se non le stesse persone che stavano lì dentro o ancora la casa del quartiere a Mirafiori progettata in un modo realizzata in un altro perché quello spazio di fronte diventa un spazio di tutti uno spazio in cui le comunità locali si appropriano di quella roba che doveva essere tutt'altra cosa e che nessuno riesce a dominare o ancora il ripensamento degli spazi della dismissione che vengono in qualche modo riutilizzati da forma più o meno neoliberistica di produzione dell'affatto ma che in qualche modo hanno degli esiti non previsti ma ancora una diminuzione di tensione ancora più alta che si è in Sottilano a Milano sappiamo bene che tutti i progetti di straordinario interesse sull'arte pubblica che ci sono in questa zona ma naturalmente qui la tensione è veramente tra un pubblico che è indebolito come dire affaticato ma che favorisce tutta una serie di iniziative private e che però si devono legittimare attraverso la costruzione di spazi più o meno pubblici ecco chiudo in questo ultimo minuto per dire il senso era quello di domandarsi che cosa sia oggi lo spazio pubblico perché se vogliamo ripensare l'arte nello spazio pubblico abbiamo bisogno di chiederci anzitutto che cosa sia questo spazio mi pare che ci siano due temi o due questioni che vadano veramente indagate e comprese sia dal punto di vista delle pratiche che dal punto di vista della regolamentazione che cosa sia l'ingaggio e che cosa sia l'impatto quando parliamo di impatto ormai ragioniamo quasi esclusivamente su modelli di valutazione quantitativa anche qualitativa ma che tendenzialmente ragionano intorno a un numero e che fondamentalmente considerano il target come obiettivo di quello delle nostre azioni ecco ragionare di impatto oggi significa chiedersi che cosa sono cosa sia il pubblico che cosa siano i pubblici questo lo diceva già Diui nel 54 quando diceva che i pubblici variano a seconda delle condizioni di spazio e di tempo allora ragionare di impatto oggi dovrebbe portarci soprattutto dal punto di vista della regolamentazione portarci a ragionare intorno a che cosa significhi capire in che modo rispetto a quello spazio pubblico che è definito dalle relazioni che da forme più o meno aggregative di pubblici quell'arte sia in grado o meno di relazionarsi e con chi e dal punto di vista dell'ingaggio invece questo è realmente molto più pertinente rispetto alle pratiche artistiche il tema è con chi mi ingaggio per chi mi ingaggio in qualche modo in una forma disincantata delle pratiche artistiche pubbliche nello spazio pubblico che non pensino di arrivare a tutti costantemente ma che siano molto più consapevoli della loro dimensione parziale o parzializzata o ampliabile nel tempo funzionano forse in qualche modo più come un dispositivo di ingaggio per ingaggiare a se stesse per ingaggiare i pubblici in una dimensione plurale anziché individuale e molteplice anziché assoluta grazie grazie Michele per questo intervento illuminante che apre tantissime riflessioni anche sui nuovi territori della condivisione che non sono più quelli classici sull'ibridazione degli spazi tra pubblico e privato e anche su una messa in discussione di termini come condivisione e cooperazione che si giocano come dire su molteplici livelli anche se vogliamo ambiguità passo la parola a Gabi Scardi che tratterà un intervento intitolato permeabile e performativa l'opera pubblica come potenziale elemento cardine tra luogo tempo soggetto istituzione Gabi ricordo è anche promotrice con lo studio legale proprio del restauro del recupero del teatro di Burri a Milano in Parco Sempione e quindi affronterà proprio questa dialettica tra la permanenza e la trasformazione e quindi la capacità anche di considerare il recupero delle opere proprio attraverso questa chiese trasformativa relazionale performativa Gabi Scardi te la parola sì buongiorno buongiorno e grazie per questo invito e per gli interventi precedenti interventi precedenti già talmente interessanti che avrei mille 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 cose da dire insomma vorrei già ristrutturare tutto il mio intervento ma naturalmente non lo farò e quindi ecco io affronterò invece una lettura dell'opera pubblica in termini di dialettica tra permanenza e capacità di trasformazione quindi in rapporto alla sua possibilità di co-evoluzione rispetto al territorio e ai suoi abitanti ai cittadini naturalmente l'opera pubblica rappresenta uno delle grandi sfide delle più radicali credo per gli artisti già da decenni è una questione aperta e una delle 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 tematiche cruciali a mio avviso è appunto questa la dinamica tra permanenza e trasformazione dell'opera e su questa mi concentro perché un'opera è in grado di vivere e di svolgere il proprio ruolo solo che è quello di riconfigurare il contesto come è stato detto finora e in particolare il contesto pubblico solo se arriva a comunicare con il pubblico a parlargli il pubblico o i pubblici a coinvolgerlo ad attivarlo quindi si riesce a fare da fulcro per una connessione attiva tra luogo tempo e il soggetto che al quale al quale si rivolge in caso contrario resta inattiva affona e a lungo andare invisibile per quanto topica possa essere la sua posizione sul sul territorio per quanto per quanto centrale quindi in un mondo in perenne trasformazione per poter continuare svolgere questo ruolo attivo nel tempo lungo che è proprio di quella dimensione territoriale di cui di cui stiamo parlando l'opera deve si deve mantenere viva e questa è la grande sfida appunto mantenersi viva oltre alla cornice territoriale circoscritta del periodo in cui è stata è stata creata deve poter recepire i cambiamenti del contesto li deve poter assimilare e si deve poter continuamente rinnovare per rinnovare quel vincolo fra il contesto fisico con il contesto fisico quindi prossimità di cui si è parlato prossimità con i cittadini con chi si confronta con essa e con e con il territorio con il luogo dunque questa connessione che si rinnova nel tempo per poter mantenere rilevanza si deve riconfigurare inarrestabilmente e per un'opera che nasce come permanente questo è ovviamente estremamente complesso la possibilità che questo avvenga risiede nel fatto che l'autore l'artista abbia immaginato l'esistenza dell'opera al di là del tempo in cui la crea al di là delle condizioni che la generano al di là di se stesso considerando un dopo un poi che nel momento della progettazione non è determinabile quindi l'opera deve essere dotata di una flessibilità di una ricettività che le consenta di accompagnare e mutare delle condizioni rispondendo alle sollecitazioni del tempo senza però rinunciare a se stessa e al proprio senso al messaggio che vuole portare anche perché un'opera è è parzialmente elastica ma fino a un certo punto insomma poi si ribella io trovo e quindi normalmente le istanze di permanenza e di di permanenza di trasformazione sono considerate alternative pensiamo a Chris Polti che già insomma molto tempo fa in una riflessione sul destino urbano dell'arte ambientale parlava proprio di queste componenti che che corrispondono a intenzionalità diverse a modalità operative diverse quella animatorio effimera lui la definiva così e quella costruttivo permanente quindi egli sostiene che che queste due componenti corrispondono a mentalità diverse una partecipativa l'altra di relazione dell'opera con il contesto ambientale in realtà io credo e sostengo che queste queste due componenti permanenza trasformazione possano arrivare a congiungersi anche in opere appunto permanenti e questo può avvenire quando l'opera è articolata sulla base di un carattere di performatività ed è un termine che che assumo da da Mertild Wildrich che ha scritto proprio un libro che si chiama Performative Monuments e queste loro secondo modalità ed equilibri sempre diversi si può verificare la convergenza tra questi tra il concetto di monumento nel suo portato di autorevolezza e di durata che sono caratteristiche ancora indispensabili e quello invece è il concetto invece di azione sulla base appunto di questo carattere di performatività dell'opera allora in particolare io penso a spazi praticati a luoghi praticati e a opere praticate sulla base di un coinvolgimento che costituisce parte integrante appunto dell'opera del modo in cui viene concepito e che completa l'opera senza il coinvolgimento delle persone l'opera non è non è completa meglio se questo coinvolgimento è spontaneo è volontario deve questo coinvolgimento deve scaturire dalla necessità dal desiderio del cittadino comunque interessarlo in prima persona nelle sue facoltà inalienabili di individuo e questo coinvolgimento si può fare azione è un'azione che è temporanea ma non è effimera nel senso che gli effetti di questa azione si possono sedimentare nel bagaglio di esperienza di quello che è stato coinvolto anche a volte indipendentemente dal fatto che la persona se ne ricordi con puntualità Agnetti parlava di 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 dimenticare la memoria quindi di assimilare poi l'esito l'effetto di ciò che si fa di ciò che si esperimenta e si conosce ecco e allora penso anche a ciò che Melanie Dodd nel suo libro omonimo chiama spatial practices pratiche spaziali e queste pratiche spaziali possono arrivare ad assumere una rilevanza sociale poi nel momento in cui non solo investono il singolo ma investono il corpo collettivo la collettività e quindi generano un effetto accomunante un effetto coesivo eh da adesso quanto sia ehm cruciale l'esperienza diretta e eh a maggior ragione l'esperienza diretta fisica eh dei luoghi ehm e e dei luoghi della città a maggior ragione ancora è è è noto va anche detto che eh parliamo adesso poi mh entrerò nel nel dettaglio ma ehm parliamo di opere pubbliche ehm permanenti eh che restano sul luogo e quindi è evidente che gli interlocutori che sono coinvolti eh i soggetti che 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 vivono l'opera che la fruiscono eh cambiano nel tempo sono idealmente generazioni di cittadini e di frequentatori del luogo quindi è chiaro che le opere stesse nell'inglobale inglobare nell'azione eh si modificano non possono che modificarsi ehm parallelamente al contesto di cui fanno parte quindi si parla di quella coevoluzione che è anche un termine che è già eh emerso la loro ricettività inesca quindi un circolo vizioso le opere continuamente fruite secondo modalità che variano partecipano eh della vita del tempo a loro volta e si si sottraggono quindi alla staticità che è uno dei grandi problemi degli artisti eh oggi e nello stesso tempo questo consente loro di continuare a farsi vitali veicoli di comprensione di una realtà che si modifica a a sua volta quindi c'è questa connessione organica tra l'opera e la realtà in cui l'opera vive ecco e adesso porto alcuni esempi parto dall'opera che ha citato appunto Alessandra Pena siamo a Milano si tratta di un parlo di eh un nucleo di quattro opere che sono situate eh nel parco eh metropolitano il parco Sempione la loro genesi è comune risale alla sezione del a una sezione della quindicesima triennale di Milano del milenovecentosettantatré curata da Giulio Macchi intitolata molto significativamente contatto a altre città e le quattro opere sono il teatro continuo di Alberto Burri i bagni misteriosi ehm i bagni misteriosi di Giorgio De Chiri con l'accumulazione musicale e seduta di Hermann e il chiosco eh scultura di Giorgio A meglio Roccamonte le quattro opere rimanenti di quella biennale sono tutte opere di un grandissimo valore storico-artistico abbiamo già sentito i nomi eh storico-artistico urbanistico e di grandissima tenuta formale non mi dilungo su questo tema ma insomma sono sono opere veramente straordinarie e ci sarebbe molto da dire sulla su appunto sugli aspetti mh eh formali eh ma quello che conta in questo in questo momento invece che sono opere utilizzabili sebbene concepite da da artisti e proprio come opere d'arte in qualche modo sono sono funzionali eh sono disponibili potremmo collegarlo in qualche modo fra micro architetture e macro e macro design ecco la mostra eh artecità verteva proprio sullo spazio pubblico come luogo in cui ritrovare il senso della collettività siamo nel 73 e questa è l'area del tempo gli artisti sono invitati ad elaborare attraverso le loro opere idee per una altra vita urbana eh il desiderio di sperimentare li porta eh a rispondere a questo invito con opere di grandissimo impegno e radicalmente nuove come vedremo del resto la la richiesta era molto chiara arriva da Giulio Macchi che è un esperto di di tutto quello che è visivo e anche di arte che eh e la sua richiesta è di una cume lui parla proprio del del ruolo degli edifici pubblici già nella città greca anche su questo non mi dilungo ma il suo testo sul catalogo della Biennale è è sinteticissimo e di una chiarezza però cristallina straordinaria eh tutte queste opere appunto sono eh dotate di un carattere aperto non prescrittivo vivono dell'integrazione spontanea non predeterminata con il pubblico o meglio con un pubblico estremamente variegato e con le sue azioni non predeterminate ma assolutamente spontanee e partiamo dal teatro continuo qui eh Giulio Macchi e e Burri sulla sua piattaforma teatro come dichiara il nome e continuo come dichiara il nome cioè sempre predisposto per l'uso è un dispositivo tecnico scenico realizzato proprio al centro del parco dove i suoi due assi traspettici si incontrano in un luogo assolutamente eh topico concepito da Burri a partire dal presupposto che il teatro sia contatto con la vita che sia sociale per antonomasia perché eh parla è espressione della società ehm e e che quindi lo spazio scenico possa essere rappresentativo del rapporto dell'individuo con il suo contesto con la città eh questa questo teatro è immediatamente riconoscibile come teatro sebbene sia ridotto eh davvero a uno scheletro di teatro alla all'essenziale eh è una piattaforma orizzontale di cemento sollevata da terra con tre pannelli verticali per lato in metallo in ferro rotanti eh che scandiscono lo spazio a modi quinte l'insieme è molto potente è davvero assertivo come era Burri insomma nel suo carattere eh ma è fatto per enfatizzare non se stesso se stesso bensì le caratteristiche naturalmente eh mutevoli del paesaggio che incornicia adesso qui lo vediamo da vicino ma visto da più lontano è veramente una cornice che incornicia il paesaggio del eh del parco e anche per incorniciare l'espressività corporea fisica eh di chi lo calca e qui vediamo alcune persone sul teatro diventano ehm naturalmente figure sceniche eh attori attori della vita quotidiana con due edifici eh importanti eh come quinte da un lato eh il castello sportesco dall'altro l'arco della pace quindi eh inquadrato è l'asse del parco con il suo mutare nel tempo cambiano i colori fremono le foglie delle piante natural naturale avvicendarsi di stagioni e di atmosfere ma soprattutto cambiano i gesti spontanei non 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 prevedibili delle persone che in qualsiasi momento eh e in maniera del tutto indipendente ci possono salire possono eh calcare eh la questa quinta scenica quindi l'individuo diventa il colui che completa il quadro senza individui che ci salgono sopra il quadro è è incompleto c'è la natura c'è il paesaggio c'è il parco ma quello che conta di più è appunto la figura scenica il gesto personale ehm l'atteggiamento eh quindi la vita praticata eh anche la comunicazione intersoggettiva che si svolge sopra questa piattaforma tutto diventa avvenimento tutto ciò che avviene sopra il palco diventa avvenimento e le persone diventano appunto protagonisti ehm Gabby quattro minuti oh allora eh dunque quello che è scenato è proprio l'impermanenza sebbene l'opera sia eh eh permanente e l'eccezionalità l'eccezionalità del quotidiano ecco qui immagini questo è un bambino eh performance eh di tutto succede Arman accumulazione musicale con seduta di nuovo questa volta è un anfiteatro sui eh gradoni di nuovo uno spazio di tutti di ognuno in qualsiasi momento lo ad animarlo sono i colpi e del resto i colpi fa riferimento Arman e con con queste sedie che sono immerse nel cemento ehm attività spettacoli in solitaria collettivi eh un'altra opera non c'è tempo ma è un'opera davvero straordinaria ecco veramente succede qualsiasi cosa su questo eh spettacoli organizzati spettacoli spontanei Giorgio De Chirico eh una piscina e vediamo qui due immagini di questa piscina eh perché ehm la piscina era veniva inizialmente utilizzata molto così era uno spazio anche questo concreto pragmatico alternativo di per un utilizzo molto eh libero un utilizzo veramente del corpo l'uso della vasca la messa in scena dell'individuo su questo set preorganizzato oggi eh questa vasca questo quest'opera vive in un regime diciamo di tutela separata dalle altre perché è dentro il eh il gendino della triennale e eh a meglio Roccamonte il chiosco scultura idealmente è uno vabbè si rifà la poetica dell'artista delle sculture e robot ma è un invito è un chiosco per giornali per la lettura dei giornali a cui è abbinata una panca che è parte integrante dell'opera importante e le persone si possono sedere per dedicarsi a una pausa alla contemplazione a leggere un giornale appunto l'idea della pausa l'idea di una sosta di eh per la lettura un luogo comodo attenzivo eh praticabile non giocato su un livello di lettura critica ma appunto su un livello pragmatico di utilizzo concreto eh Melanie Dodd parla di pratica spaziale eh ed è appunto questo eh a cui penso eh tutte queste opere sono impregnate impregnate su un impegno che riguarda insieme il pubblico il soggettivo il sociale l'estetico eh esprimono istanze di inclusività di cittadinanza democratica e attiva di eh abitabilità dei luoghi tutto questo è stato realizzato nel 1973 ma sono opere oggi ancora utilizzate senza sosta c'è sempre qualcuno che le usa sull'opera di Hermann su quella eh di Burri poi ci sono molte cose da dire sulla diciamo sulla eh le vicende di questo di queste opere ma questa è per un'altra volta però insomma c'è stata una regia curatoriale estremamente attenta e c'è stata una risposta eh degli artisti che hanno realizzato opere eh estremamente ricettive fatte proprio per liberare l'individuo dal senso di separazione di individuo di isolamento dal contesto dal luogo e eh dagli altri questo questa persona un individuo a condividere lo spazio poi naturalmente dice che Krasni eh non è facile eh non è facile cioè un monitor definire chi veramente può usare lo spazio pubblico quando parliamo di tutti quando parliamo di pubblico appunto parliamo usiamo termini che andrebbero come dire ehm che andrebbero analizzati eh infinitamente no questioni di rappresentanza questioni cos'è la condivisione veramente la diversità che cosa significa però anche questo è è un grande tema quello che voglio dire solo è che ehm esiste una possibilità il corpo eh è sempre presente in queste opere quando parlo di performatività parlo appunto eh di questo queste opere non parlano solo al pubblico che esiste parlano a un pubblico che evocano che chiamano che il pubblico del futuro e questo è stato fatto queste opere del 73 ancora oggi a distanza di 50 anni riescono eh ad attivare questo pubblico che è per queste opere per questi artisti il futuro e lo fanno perché sono come dire il pubblico del futuro è stato considerato senza essere stato pianificato senza che ci fosse un desiderio di eh un'intenzione di dirigerlo c'è la possibilità di queste opere di innescare qualcosa che non è prevedibile anche se è previsto non è prevedibile nei suoi dettagli queste opere sono ricettive sono aperte e qui eh e qui risiede appunto il loro messaggio emancipatorio che continuano a trasmettere senza preclusioni senza eh rigidità tanto che hanno anche ospitato eh opere di arte di artisti che oggi si sono voluti confrontare di questo con questa opera abbiamo visto delle performance Jerome Bell Alexis Black e altri e qui vediamo Elena Coloni con una eh performance eh che parla proprio di eh di eh di spazio di luogo di distanza di una distanza che può essere riempita con la cura insomma di abitare lo spazio vivendolo personalmente ma partecipandolo con altri condividendolo eh con tutte le sue tensioni quelle tensioni di cui si è parlato eh ma pure di continuare appunto a a a viverlo come eh qualche cosa che è di tutti ci sono poi molte eh molte tematiche da da approfondire sicuramente per esempio eh la questione di come prendersi cura eh di queste opere eh è una è una questione eh cruciale il teatro continuo eh è un grande esempio in questo eh in questo senso perché ha vissuto eh vicende veramente eh drammatiche anche difficili da comprendere per verità e quindi insomma la questa questa questione delle opere della loro permanenza temporaneità performatività ricettività interseca la questione della 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 cura e della presa in carico da parte dell'ente pubblico dell'istituzione eh delle opere eh perché che l'istituzione che deve essere capace di farne proprio di condividere di legittimare il portato il senso profondo di queste opere eh però anche questo è un altro discorso spero che gli esempi siano stati eh grazie Gabby sì moltissimo grazie davvero anche per avere essere appunto eh essere riuscita a tornare appunto al al tema ehm gli esempi ovviamente storici eh è il concetto di ricettività il concetto di opera aperta il concetto di eh opera dispositivo e quindi di opera arti diciamo di ehm progetto artistico ehm eh utilizzabile ecco questo è un tema che si apre soprattutto anche quando noi parliamo e affrontiamo il tema dello spazio pubblico nel caso degli degli spazi verdi e dei contesti urbani all'interno appunto di aree verdi eh che rispondono chiaramente ad un bisogno assolutamente attuale contemporaneo dell'incontro dello scambio ecco farsi interpreti di quella che è un'esigenza ehm della della comunità e anche eh ciò che probabilmente le istituzioni culturali sono chiamate a fare eh non soltanto appunto le amministrazioni pubbliche ma le istituzioni eh che operano direttamente e in questo eh appunto con questa con questa anticipazione voglio dare la parola a Emma Zanella e ad Alessandro Castiglioni che con il loro intervento il paradesso il paradosso di Zenone spazio e tempo nell'arte pubblica libertà progettuale acquisizione nelle raccolte museali ci racconteranno proprio come si costruisce come è possibile costruire questo eh speciale dialogo tra il museo la città e l'arte pubblica e quindi eh mettendo insieme appunto in un'azione sinergica ehm questi questi elementi eh con la finalità di acquisizione di acquisire poi appunto all'interno delle collezioni pubbliche ehm eh nuovi appunto progetti culturali grazie vi lascio la parola bene grazie grazie Laura io mi associo naturalmente ai ringraziamenti al ministero alla direzione generale arte contemporanea alla fondazione scuola e bene attività culturali per aver progettato e messo in campo queste cinque giornate di studio di riflessione che saranno per noi ovviamente molto importanti anche oggetto proprio di eh uno sguardo verso il futuro relativamente all'arte pubblica eh da alcuni decenni eh il museo MAGA promuove lo specifico dialogo tra museo città e arte pubblica coinvolgendo importanti artisti italiani all'interno di rassegna o di progetti espositivi sia come dire complessi e ne ricordo solo alcuni a cui noi poi ci riferiremo per le collezioni del museo ZAT zona artistica temporanea nel duemilaquattro eh Twister nel duemilanove era addirittura una grande manifestazione regionale con dieci musei d'arte contemporanea coinvolti in una progettualità di arte pubblica urban mining nel duemila e sedice e ancora fino all'oggi anche progetti singoli quindi singole committenze date agli artisti al di là delle eh mostre o dei progetti espositivi più ampi eh la nostra attenzione l'attenzione del museo nei confronti dell'arte pubblica si pone fondamentalmente tre obiettivi importanti e tra loro strettamente correlati da un lato ehm rafforzare sempre la relazione tra museo e territorio al di là delle azioni naturalmente educative dei rapporti con gli enti locali e con le associazioni e con l'area vasta su cui il museo eh interviene su cui il museo agisce ma la relazione territoriale quindi la capacità e la possibilità di innestare un dialogo aperto una e partecipato con eh i diversi eh come dire stakeholder del museo ma soprattutto con i cittadini eh l'abbiamo quasi sempre eh affidata naturalmente con un dialogo aperto anche con noi agli artisti perché lo sguardo artistico e progettuale eh è sempre uno sguardo ed è sempre una proposta capace di reinventare e di aprire nuovi territori di ricerca il secondo motivo è il sostegno alla creatività contemporanea per noi parlare di arte pubblica significa anche ha significato dare agli artisti la possibilità di ottenere delle committenze precise per nuove opere nuovi progetti anche per vedere acquisite le loro opere all'interno delle collezioni del museo e questo è l'ultimo punto ovviamente strettamente correlato e dunque la possibilità di ampliare e aggiornare le nostre collezioni permanenti proprio attraverso l'acquisizione di opere nate site specifica all'interno del museo e della città attraverso questa progettualità e qui si apre proprio il punto su cui noi abbiamo voluto incentrare il nostro intervento e quindi il passaggio da una progettualità e da opere che nascono per lo spazio pubblico quindi con un tempo e un luogo precisi e anche con una capacità di relazionarsi lo abbiamo visto negli interventi che mi hanno preceduto e di dialogare con la città con i cittadini con il pubblico con tutti coloro che entrano in rapporto con l'arte pubblica fino a dare il passaggio in una collezione di museale un passaggio che non è scontato non semplice perché l'arte pubblica non risponde alle tradizionali logiche di conservazione e fruizione museale l'arte nasce per un tempo e per un luogo e non appena entra nelle collezioni del museo spazio e tempo divergono e quindi si allungano e questo crea un continuo dialogo che il museo mantiene aperto con gli artisti o con gli eredi degli artisti e con gli archivi perché l'opera va seguita nella sua evoluzione da questo punto di vista porto alla vostra attenzione due esempi due esempi che mi sono che sono sembrati diciamo particolarmente significativi lasciando poi la parola su riallestimenti delle collezioni museali ad Alessandro Castiglioni il primo è un'opera di Giuliano Mauri realizzata progettata nel 2003 realizzata nel 2004 all'interno della mostra ZAT zone artistiche temporanee voluta dal premio nazionale arti visivi città di Gallarate e dal museo Maga che allora non era Maga ma era Gamma ma siamo insomma sempre noi avevamo invitato tredici artisti all'interno della città a ragionare sui luoghi della città luoghi che sono stati scelti spazi relazioni possibilità gli artisti erano moltissimi da Giuliano Mauri a Luca Vitone a Loris Cecchini a Adriano Paci e moltissimi altri che non sto qui ad elencare Giuliano Mauri sceglie di sua volontà una passerella abbandonata che congiungeva le due sponde dell'Arno un torrente che passa e che ha creato la storia della città e qui interviene con la sua modalità molto leggera lavorando con i legni come sempre faceva Giuliano Mauri e anche con una volontà l'ho segnato di non imporre un elemento architettonico funzionale ma di innestare un dialogo tra parentesi questa passerella univa due spazi quello pubblico e quello privato che è stato recuperato anche alla fruizione delle persone andava a mettere un segno poetico naturale molto leggero all'interno dello spazio urbano chiaramente già sapendo che l'opera avrebbe avuto un tempo preciso perché lo sappiamo bene i lavori di Mauri sono lavori che nonostante la manutenzione e la conservazione si seguono la loro vita il loro tempo entrano iniziano con un percorso ma naturalmente seguono anche il percorso naturale scusate ho difficoltà vediamo Mauri nel primo sopralluogo naturalmente la sua maquette che oggi è conservata nelle collezioni del museo e disegni preparatori ma soprattutto vorrei incentrare l'attenzione sul fatto che quest'opera il museo lo sapere acquisita all'interno delle collezioni a poco a poco subisce nel tempo un degrado un degrado su cui noi interveniamo ma non con elementi strutturali forti non interveniamo mettendo all'interno delle centine per dire di ferro perché l'opera di Mauri manteneva si relaziona proprio con la naturalità e con la trasformazione nel tempo quindi in dieci anni l'opera degrada vediamo l'immagine a sinistra ormai completamente inglobata nella natura e ci troviamo di fronte ad un caso studio molto diciamo esemplificativo perché da un lato la magistratura delle acque chiede lo smontaggio dell'opera dall'altro la soprintendenza ai beni culturali chiede la sua conservazione o la sua riqualificazione anche in un altro luogo con altre modalità e noi entriamo in dialogo con l'archivio Mauri con gli eredi e naturalmente anche con i documenti che Mauri ci aveva lasciato andando per il momento ancora ad aprire un dibattito perché chiaramente l'opera è stata smontata ma siamo ancora in corso di discussione per capire se e come poterla ricostruire con tutte le criticità che questo comporta cioè cambiare luogo cambiare modalità cambiare tempo e questo all'interno di un'opera ovviamente tutelata perché all'interno di una collezione pubblica dopo alcuni anni la un altro esempio che vogliamo portare in cui questa filiera questa processualità è stata discussa con l'artista in maniera differente naturalmente con una capacità proprio di intervenire anche sui vari diciamo evolversi dell'opera è una un'opera di Cesare Pietro Iussi Flussi interrotti di parole realizzata nel 2006 di Ciper Urban Mining una grande mossa di arte pubblica a cui ha partecipato anche la direzione generale per l'arte contemporanea con nove artisti presenti in città ecco Cesare Pietro Iussi ha riflettuto sulla memoria della città quindi sulla capacità di poter raccogliere quei pensieri interrotti quelle memorie andando a lavorare con le RSA e con gli anziani della città naturalmente costruendo una metodologia molto delicata con i medici a suo supporto e raccogliendo le memorie soprattutto dell'Arno che era per noi il tema centrale dell'intervento Cesare mette in campo una performance con dei giovani studenti che riconsegnano queste scritture queste memorie queste ricordi alla città per un giorno solo e con una metodologia molto molto leggera naturalmente che scompare nel giro di poche ore ma al museo e quindi poi per l'opera musealizzata l'esito finale sono una serie di piccole scritture che Pietro Iussi realizza con su della carta naturalmente segnata dal tempo con una sua scelta di riscrittura dei pensieri interrotti e lasciando poi alle collezioni del museo un'opera di arte pubblica nata da un rapporto naturalmente processuale di relazione e di dialogo ma che rientra nelle collezioni del museo con una sua identità ben precisa e soprattutto capace poi di inserirsi appunto nelle collezioni senza quelle criticità che avevano caratterizzato l'opera di Mauri questo pensiero e questo diciamo evolversi viene seguita naturalmente ogni volta che un'opera viene dibattuta con gli artisti ogni volta che un'opera entra nelle collezioni permanenti e per cui si aprono tutta una serie di considerazioni che riguardano la patrimonializzazione la conservazione i diritti e anche la trasformazione dell'opera nel tempo su queste tematiche stiamo riflettendo su una importante mostra che renderà conto di tutto questo percorso e qui presentiamo alcuni aspetti di questa mostra che arriverà al Museo Maga e darei quindi la parola ad Alessandro Castiglione e vice direttore del museo proprio per affondare nel merito delle tematiche e dei temi che stiamo affrontando per l'esposizione storica al Museo Maga allora sì diciamo che completo un po' le considerazioni di Emma nel senso che l'idea su cui stiamo lavorando è quella di capire in che modo e attraverso quali strumenti e quali linguaggi possiamo pensare a un riallestimento della collezione permanente del museo che possa raccontare degli episodi della storia dell'arte pubblica in Italia a partire da ciò che siamo riusciti a collezionare sia attraverso dei progetti realizzati effettivamente diciamo così in museo sia attraverso dei processi lunghi di acquisizione di alcuni interessanti nuclei di opere il primo caso che porto è chiaramente un caso di un autore fondamentale e pioniere di questo tipo di ricerche che è Ugo Lapietra Ugo Lapietra con cui chiaramente nel 2016 abbiamo realizzato una grossa mostra antologica e in quell'occasione siamo andati a produrre e ricostruire una serie di progetti che la pietra tra il 67 e il 70 aveva pensato per lo spazio pubblico e riproposte all'interno della città strumenti ed elementi che erano di fatto dei dispositivi che l'artista progettava per guardare la città in un modo diverso e quindi per attivare dei processi critici di ripensamento della propria posizione all'interno dello spazio pubblico e che però vivevano di una costante mobilità quindi l'artista ha lavorato in centro città ha lavorato all'aeroporto di Malpensa che chiaramente è strettissimamente correlato con l'identità del museo siamo a 5 chilometri di distanza e questi elementi come vedete nell'immagine di destra poi rientrano nel museo per essere esperiti in altre forme per essere utilizzati anche dal pubblico per non solo guardare la città in modo diverso ma magari guardare anche il museo in modo diverso e quindi creare un parallelo tra l'idea di spazio pubblico come spazio urbano ma anche lo spazio del museo come spazio pubblico in questo senso assume particolare importanza un altro lavoro storico presente nella nostra collezione un lavoro di una grande autrice Mirella Bentivoglio che per le Biennali di Gubbio curate da Enrico Crispolti negli anni 70 in particolare nel 76 realizza Logos si trattava di un oppiello che è un piccolo acero che viene messo alla fine dei filari delle viti per essere attaccato da tutti i parassiti e proteggere la produzione del vino e quindi una sorta di pianta sacrificale che Bentivoglio nella piazza della Signoria di Gubbio aveva ribaltato e trasformato in una casa in un elemento abitativo in cui le foglie erano diventate una serie di pensieri e di parole scritte durante dei laboratori fatti con la cittadinanza nel 93 tra 92 e 93 in un momento di ripensamento di questa produzione degli anni 70 l'artista realizza una fusione in bronzo di quell'albero che poi viene acquisita dalle collezioni del museo e come vedete nell'immagine a destra diventa un elemento che poi in una serie di workshop in alcune circostanze abbiamo riattivato non solo nella sua natura scultorea quindi come elemento che anche oggi è presente nel prato d'ingresso del maga ma anche come elemento attivatore di storie e narrazioni quindi questi due esempi per parlare un po' del nucleo storico dei pionieri negli anni 60 e 70 di questo lavoro sull'arte pubblica una seconda sezione riguarda in questa mostra in questo riallestimento della collezione interventi di artisti e artisti che appunto come ricordava e come analizzava prima la direttrice sono andati a operare nello spazio pubblico sono andati a operare nella città interventi che dalla città poi in qualche modo dovrebbero devono ritornare all'interno del museo per esempio proprio in queste settimane stiamo parlando con Luca Vitone del ricostruzione e riallestimento di un'opera che aveva realizzato per il la torre campanaria di Gallarate una piattaforma da cui con dei cannocchiali in cui le lenti erano stati ribaltate invece che guardare più da vicino si guardava ancora più da lontano alla città aumentando la percezione di distanza tra colui che guarda e il paesaggio questo lavoro panorama e questi cannocchiali sono oggetto di un discorso di riallestimento così come il celebre intervento di Loris Cecchini questa casa sull'albero questa capsula che trasporta trasportava i visitatori nello spazio e nel tempo in un mondo all'interno dello spazio pubblico di un parco ma protetti dentro questa capsula diventa appunto sono tutti elementi che nella città vivevano in una modalità e che adesso sono oggetto di un processo di ripensamento nel dialogo con il museo ultima invece tra virgolette sezione riguarda quegli interventi che erano stati già pensati all'interno dello spazio pubblico con un esito e una restituzione che avesse una sua identità specifica all'interno degli allestimenti del MAGA è il caso di Ludovica Carbotta che da anni lavora su questo ampio e complesso progetto Monowe in questa città ipotetica del futuro in cui un unico essere umano superstite recupera determinate storie narrazioni identità della propria storia in questo caso andando a lavorare sulle ciminiere abbandonate di gallarate in cui lei ricupera il profilo e la struttura dell'industria che c'era all'intorno e che è scomparsa per lasciare il posto a una serie di villette diciamo quindi una sorta di davvero trasformazione dello spazio questa architettura temporanea diventa una specie di fantasma di ciò che si trovava in quest'area e all'interno di questa struttura si trovavano erano immaginate da Ludovica una serie di strumenti e oggetti che questo ipotetico abitante di Monowe avrebbe dovuto utilizzare e che erano collegate alle funzioni che questo spazio aveva che sono diventati degli elementi scultori entrati in collezione ultimi esempi quello di Luca Trevisani che sempre nel 2016 lavora a un'interessante produzione di un video che è oggi appunto nella collezione del museo in cui l'artista crea partendo sempre da questo landscape caratteristico della tradizione industriale di Gallarate e crea questo parallelo tra le ciminiere e una scultura della collezione del museo di Fausto Melotti la baracca del 1976 che non ha solo questa analogia formale con l'elemento della ciminiera ma che rappresenta un altro patrimonio culturale sociale pubblico della città di Gallarate che è quello del museo e della sua collezione e quindi il video lavora proprio su questo costante dialogo e questa costante sovrapposizione di immaginari e di significati tra la ciminiera e la scultura di Melotti ultimissimo esempio lo scelgo perché è proprio una produzione del 2021 fatta in questi mesi il lavoro di un artista Jacopo Rinaldi che interessato in questi come dire in pratiche che abbiano anche una neantura collettiva e relazionale parte dallo studio della Benigno Marcora un'azienda industriale dell'area del Gallaratese un comune qua vicino si chiama il Giateolona nota perché era l'unica azienda in Italia e tra le poche in Europa che alla fine del secondo dopoguerra si occupava di smaltimento delle pellicole dei film era dove i film andavano a morire un'azienda diventata molto nota perché nel 1950 Comencini gli dedica un piccolo documentario che si chiama il Museo dei Sogni è dalla crisi della Benigno Marcora e dalla chiusura di questa azienda per esempio che nasce la Cineteca di Milano dalla conservazione delle prime pellicole che invece che essere distrutte negli anni 50 diventano in qualche modo il primo patrimonio da cui far nascere anche il concetto e l'idea di preservare per esempio le pellicole dei film l'artista vuole raccontare questa storia attraverso un lavoro con la comunità con gli studenti insieme guardano il film di Comencini e ridisegnano e animano alcune scene creando un cartone animato una piccola animazione di pochi minuti il film il lavoro si chiama un film può diventare un pettine perché c'è proprio un momento in cui la celluloide dei film viene riutilizzata per realizzare dei pettini e che diventa un cartone animato una piccola animazione che però cerca di collegare storia del territorio identità industriale e produzione artistica contemporanea vi ringrazio ringrazio anche voi per questa ricanalisi di esempi che esemplificano anche questioni teoriche di museologia chiariscono anche la natura e la missione civica del museo nel contribuire a fare città un museo espanso verso l'esterno sottolineando anche un aspetto determinante quello che è del non demandare esclusivamente ai dipartimenti educativi questa relazione con la città e con le cittadinanze ma mettendo la pratica artistica proprio al centro di questa osmosi ci spostiamo dal verso un luogo come dire è forse anche ambiguo verso una sorta di terra di nessuno che è quella delle rotonde un terreno pubblico che però è fisicamente delimitato isolato dalle strade che girano attorno ed anche normato e per tale analisi la parola a Claudio Busso sì grazie grazie mille intanto ringrazio i coloro che ci stanno ascoltando i colleghi relatori della della mattina e tutti gli organizzatori sia delle giornate che del lavoro appunto complesso che si svolge all'interno del progetto arte e spazio pubblico sono lusingato di essere qui con voi questa mattina in parte anche sorpreso insomma che sia stata colta questa sorta di provocazione che avevo inviato tramite abstract chiaramente provocazione come dire spero costruttiva a tutti gli effetti sia sui temi che sulle riflessioni che può aprire come premessa mi affido alle parole che Emanuele Galesi che è coautore di un testo di un anzi un volume anche di di grande spessore che è stato realizzato nel 2015 dal titolo Atlante dei classici padani insieme a Filippo Minelli autore del progetto artistico e che è tra le poche pubblicazioni che affrontano il tema dell'arte nelle rotatoie chiamiamola così dal punto di vista anche estetico e quindi non solo diciamo come opinione non solo come commento non solo come giornalismo ma anche in un certo senso almeno in alcuni tratti anche dal punto di vista estetico dal suo testo estratto questa piccola frase di apertura che dice proprio c'è stato un tempo prima della rotatoria e un tempo dopo la rotatoria l'espressione massima della rotonda che è il termine gergale con cui di solito lo chiamiamo tutti è raggiunta però con l'opera d'arte al centro la scultura finanziata per accogliere il viaggiatore per installare un simbolo della zona per celebrare la potenza dell'imprenditore per dimostrare una vitalità creativa mai soffita capite bene anche l'intento ironico chiaramente dell'autore in questo in questa apertura e soprattutto il fatto che venga contestualizzata all'interno di una dinamica che è quella analizzata del libro che dal punto di vista geografico viene descritta come la macro regione quindi questa sorta diciamo di ambito territoriale strano che dalla Lombardia poi si spostava chiaramente verso il Veneto in parte verso il Piemonte e a sud anche verso l'Emilia Romagna che aveva dei connotati che non erano riferibili diciamo così alla geografia classica delle regioni appunto che conosciamo proprio per capire appunto quali sono i diciamo così i confini del fenomeno è necessario rifarsi ad una sorta di storia diciamo da dove viene la rotonda che cosa la rotatoria che tipo di come dire genealogia ha e all'interno di diverse pubblicazioni sia accademiche che non che trattano l'argomento la principale diciamo così denotazione storica è questa scansione che vedete che fa riferimento in prima istanza al al riassetto di Piccadilly Circus a Londra come prima come dire come prodromo come pioniere di questo tipo di attività e che poi si allarga tra fine dell'Ottocento e primi del Novecento a in alcuni casi a New York in altri a Parigi e poi si diffonde in realtà proprio perché la diffusione è legata chiaramente anche all'ordinamento diciamo delle pratiche proprio di sicurezza e dei codici stradali prima degli stati nazionali e poi anche per esempio come diffusione massima dalla comunità europea come vedete negli anni 60 negli anni 80 il dato che a noi interessa di più oggi per la il racconto è quello dell'arrivo chiamiamolo così in Italia cioè di una sorta di datazione di un pre e post il 1989 è quello a cui tutti concordano nel dare la prima costruzione il primo la prima apparizione della della rotatoria in particolare a Lecco quindi diamo una scansione che è trentennale ormai della presenza di questi elementi e una scansione che ci può essere utile anche per poi valutarne l'impatto siamo solitamente abituati a valutare l'impatto dei media digitali sulle future generazioni chiamando i nati appunto a partire dagli anni 90 nativi digitali probabilmente dovremo iniziare a parlare fra un po' anche dei nativi rotatori perché trovano diciamo nascono in questo paesaggio e si devono adeguare in un certo senso ad avere questi elementi cerchiamo di capire però effettivamente che cos'è una rotatoria non esistono delle definizioni che vengono date precisamente dal codice della strada poi vi dirò anche perché in che senso appunto non le abbiamo potute prendere da quel tipo di fonte ma ci sono diversi ordinamenti che ormai diciamo concordano sulle definizioni più grandi e che danno definizioni diverse a seconda fondamentalmente della grandezza della rotatoria come vedete il metro di giudizio spesso è legato al diametro centrale della parte centrale e a seconda di dove la rotatoria va ad inscriversi qui quindi nel centro abitato il centro cittadino o del borgo o del paese e via via verso quello che chiamiamo diciamo territorio extraurbano o addirittura suburbano e quindi con questa diciamo suddivisione ternaria che però in alcune descrizioni diventa addirittura quaternaria oppure con molte altre possibilità e sfumature per esempio tra la grande e la compatta o tra la compatta e la mini di che cosa è composta una rotatoria dal punto di vista proprio della sua struttura chiamiamola architettonica se non urbanistica da quello che viene solitamente definito anello della circolazione è quella parte stradale che circonda gli elementi poi invece centrali e che solitamente sono quelli che occupano le corsie perché esistono rotatori appunto ad un'unica corsia di percorrenza e anche invece a più quindi a due o a tre corsie quelle più ampie i bracci di missione che sono appunto le strade che portano i veicoli ad entrare all'interno di questo elemento e poi la cosa che ci interessa di più ovvero l'isola centrale quella che solitamente viene definita spartitraffico anche se in questo caso il termine di spartizione non è perfettamente centrale perché non spartisce due elementi distinti proprio perché la forma della rotatoria è centrale è rotonda e quindi ha un asse di definizione ci interessa quest'isola perché è sull'isola che è stata si è diffusa poi la presenza di quelle che tra l'altro anche nel linguaggio comune ormai vengono sempre costantemente definite opere d'arte senza diciamo porsi il problema della definizione iniziale e poi magari invece valutando chiaramente spesso in maniera negativa il contenuto di queste opere la loro forma la relazione con la rotonda stessa perché nascono però dal punto di vista invece dell'operatività e della sicurezza le rotatorie esistono tutta una serie di studi precedenti a quel fatidico 1989 o comunque quel fatidico a data di spartizione che abbiamo legati e moltissimi invece successivi quindi è strano ma questo è uno degli elementi che vengono prima utilizzati e poi chiaramente gli studi a sostegno vengono prodotti successivamente e anche in maniera molto evidente si trovano appunto decine se non centinaia anche di paper accademici di urbanistica di ingegneria civile e anche di altre materie legati proprio e a supporto diciamo della tesi della presenza della rotatoria dicevamo perché perché effettivamente la rotatoria è uno strumento di diminuzione degli incidenti quindi di diciamo maggiore apporto di sicurezza stadrale rispetto all'incrocio semaforico ci sono tutta una serie di appunto elementi per i quali dalla diminuzione della velocità alla necessità di affrontare questo incrocio se è possibile chiamarlo ancora così in maniera diversa rispetto a quello semaforico che hanno portato effettivamente dati alla mano da in questo caso l'Unione della Polizia Locale Italiana ma anche da tantissimi altri punti di riferimento a questo tipo di soluzione questo però da un certo punto di vista diciamo non spiega la presenza dell'arte nelle rotatorie cioè perché appunto noi continuiamo a chiamarla così come fa diciamo la maggioranza dell'opinione pubblica perché a un certo punto nasce l'esigenza oppure si trova la necessità c'è un bisogno di popolare fondamentalmente di animare di decorare i termini possono essere diversi a seconda di quello che è il significato che gli vogliamo dare le rotatorie con questi oggetti che hanno carattere diverso alcuni tendono più verso l'idea diciamo scultorea e monumentale altri tendono invece più verso quella installativa vedremo successivamente alcuni esempi perché appunto nella diffusione di questi elementi sia riferendoci appunto al codice della strada che al comparto della sicurezza a cui facevamo riferimento prima anzi questa isola centrale l'isola spartitraffico al centro delle rotatorie dovrebbe essere il più possibile sgombra innanzitutto e poi avere una delle formule che si trova più spesso in questi regolamenti è che gli elementi che andrebbero a integrare diciamo l'elemento verde dal che è stato l'elemento primario al quale si è fatto riferimento per l'interno di queste isole dovrebbero essere a raso stradale quindi non dovrebbero invadere in un certo senso la visibilità perché l'elemento appunto ha una natura per lo più funzionale e non c'è come dire una risposta definitiva né dal punto di vista temporale cioè da quando effettivamente le rotonde hanno iniziato ad essere popolate di questi elementi né dal punto di vista diciamo così del perché ecco delle delle motivazioni certo è che forse anche prendendoci una così una sorta di libertà di licenza potremmo dire che invece la presenza di questi manufatti appunto o artefatti all'interno di queste strutture è una delle poche almeno letteralmente nel senso è uno dei pochi diciamo fenomeni che potremmo chiamare street art nel senso anche letterale del termine insomma se dovessimo in un certo senso legarle e dare questo tipo di definizione spostiamoci un attimo però dal dal territorio italiano perché come vi dicevo non è solo nel territorio italiano che vengono a svilupparsi insomma lo sappiamo tutti lo sa chi chi viaggia questo tipo di diciamo di elemento delle nostre strade è molto diffuso in particolare in Europa ma in realtà anche negli Stati Uniti e un caso molto interessante soprattutto per cercare di capire in che modo poi questo tipo di artefatti si sono connotati è quello in Francia della zona della Provenza dico interessante perché insomma anche attraverso delle semplici ricerche su internet si può trovare in moltissimi sia siti dedicati alle zone quindi alle singole località della Provenza sia invece blog di turismo diciamo e di viaggio delle selezioni delle vere proprie mappe dei tour in un certo senso proposti alla visita degli artefatti nelle rotonde quindi in questo senso c'è una sorta di primo spostamento cioè l'artefatto non è più o comunque la scultura non è più legata ad una dimensione esclusivamente di connotazione del territorio come diciamo proposta di quelle che sono le attività locali proposta e anche in un certo senso sponsorizzazione diciamo brandizzazione di un elemento definitivo per la località ma diventa cioè entra in un certo senso a che vedere con un tour quindi con una proposta anche di visione che è sia turistica ma di quel turismo che ormai siamo abituati a chiamare turismo culturale quindi entrano a tutti gli effetti ad essere identificate almeno nella narrazione comune come elementi della cultura in un certo senso e non solo dell'arte qui ne vedete una nell'immagine ma ce ne sono diverse questo tipo di attitudine che appunto avevo definito come una sorta di piccola formula dal genius loci alla proloco è quella che è alla fine più diffusa anche sul nostro territorio nazionale ma vediamo diciamo in che modo tentando velocemente di ricostruire il perché si arriva anche a questa idea della della promozione allora come vi dicevo anche facendo riferimento alcuni documenti prodotti appunto sia dalla dalla polizia e dalle polizie locali sia da altri contenuti appunto di studio urbanistici la rotatoria in sé come definizione precisa non è inserita o almeno non lo è fino ad oggi inserita come elemento preciso all'interno del codice della strada nel codice della strada le rotatorie diciamo si si attestano vengono classificate in un certo senso come isole di traffico o di sparti traffico vengono parificate in un certo senso a questo elemento questo lo dico perché proprio quegli elementi cioè le isole di traffico o sparti traffico sono elementi che avevano avuto una sorta di sviluppo e regolamentazione proprio perché al loro interno si trovava del verde urbano e del verde pubblico perché questi sono tutti stiamo parlando in qualsiasi caso di suolo pubblico che quindi ha una gestione diretta a seconda della tipologia di strada all'interno della quale si trova definita dai comuni dalle province o da altri enti locali che sono che hanno diciamo in competenza la manutenzione di questi territori lo dico anche perché effettivamente questi territori chiamiamoli così questi terrenvag qualcuno li ha definiti questa terra di nessuno nasce e si si sviluppa in un certo senso anche come dimensione creativa all'interno del verde perché perché effettivamente a seguire l'abbiamo già sentito questa mattina a quella sorta di privatizzazione dello spazio pubblico che viene a identificarsi proprio perché gli enti non riescono a come dire a sovraintendere a tutti gli spazi che hanno sia per questioni economiche che per questioni di governo che hanno e che dovrebbero diciamo tutelare e quindi in un certo senso iniziano una sorta di delega fondamentalmente cioè questi spazi si devono trovare dei modi per far sì che esistano e che vengano dei privati a tutelare e curare questi spazi che chiaramente sono pubblici ma che su quali il pubblico non riesce ad arrivare e in che formula si trovano una delle più diffuse o almeno quella che ho ho trovato ritornare più in maniera diciamo con numeri più ampi è quella che viene definita in gergo adotta una rotonda in che senso cioè il lente pubblico in questo senso locale per la maggior parte dei casi permette che un privato e all'inizio come vi dicevo appunto ditte di botanica di cura del verde prenda in custodia la tutela di questo spazio e lo gestisca diciamo in maniera con la massima libertà e a fronte cioè il privato lo fa tra virgolette gratis a fronte del fatto che il privato possa fare promozione di sé all'interno di questi di questi spazi quindi porre dei all'inizio dei semplici cartelli diciamo promozionali con il proprio logo e poi piano piano diciamo come abbiamo visto in diversi in diversi esempi appunto in tutta Italia facendo diventare proprio tutta la struttura interna che sia solo di verde o che sia appunto di oggetto artistico o pseudotale manifestazione di questa sorta di pubblicità quindi la cessione della cura diventa anche cessione dell'immagine potremmo dire di questo di questo elemento questo però cosa significa significa che effettivamente in uno spazio che già come abbiamo visto non è regolato né dal codice della strada né da altre tipologie di codici dello spazio pubblico o dell'arte della creatività ma neanche del verde insomma della botanica nello spazio pubblico il privato si approprii in maniera diversa ed è questo o almeno così sembra uno dei motivi per cui poi le presenze in questi spazi non sono più quelle a raso cioè non è che il privato se ne assume la cura facendo una sorta di prato all'inglese diciamo manutenuto e gestito ma sia dal punto di vista del verde inizia a metterci alberi altre presenze arbusti fiori tutta una serie di dimensioni anche creative e decorative e così poi pian piano inizia anche la diffusione appunto che come vi dicevo e vi ricordo ha una storia trentennale anche degli elementi artistici e infatti una delle cose che si nota andando proprio nei documenti dei singoli comuni è che il passaggio all'opera alla presenza chiamiamola così dell'opera d'arte al centro non è un passaggio prettamente definito ma a un certo punto è come se cercasse una regolazione un regolamento un ordinamento almeno tant'è che in diversi comuni sui diversi siti nei documenti di comuni italiani si trovano di tipologie eterogenee di tentativi di regolamentazione per cui Claudio un minuto per cui per esempio alcuni adottano parametri legati al bando alcuni adottano parametri legati alla commissione ciò che è però interessante diciamo per chiudere questa slide e passare velocemente alle ultime due è che non esistono o perlomeno nelle commissioni che sovraintendono questi lavori non ci sono esperti tra virgolette d'arte molto spesso ci sono tecnici degli uffici predisposti del comune oppure ingegneri oppure urbanisti o addirittura gli esperti all'interno proprio di quelle che sono le ditte diciamo le società che sono preposte alla costruzione della rotonda come elemento diciamo artistico velocissimamente quali sono le principali appunto formule di popolamento chiamiamolo così di opere d'arte all'interno delle rotonde la donazione da parte dell'artista di queste opere o addirittura la donazione che avviene tramite un privato cioè un privato commissiona l'opera all'artista e poi la dona al comune per quella rotonda il bando pubblico chiamiamolo così così definito che però in ogni caso non ha una struttura identica e il caso più raro una delle cose a cui mi sono appassionato è una presentazione spontanea o addirittura non autorizzata di opere che compaiono nottetempo nella rotonda e poi in alcuni casi come quello che vedete in alto nella slide quella sorta di essere alieno in metallo poco fuori il centro di Bologna rimangono in maniera permanente quindi non sono state né commissionate né autorizzate né richieste vengono installate e rimangono in maniera permanente ultima cosa con cui chiudo due progetti permettetemi appunto la citazione appunto da curatore artistici che si sono occupati di questo argomento uno era quello che citavo prima il progetto si chiama Padania Classics quello almeno fotografico e di archiviazione di elementi del territorio padano realizzato da Filippo Minelli di cui il volume che ho citato in apertura è solo una delle varie diciamo così è solo uno dei vari esiti e l'altro molto più recente è un film proprio perché è girato in pellicola di Maurizio Finotto che sulla falsa riga delle diciamo così degli attraversamenti di pianura resi celebri dalle fotografie di Luigi Ghirri dai racconti di Gianni Celati che ricordiamo perché è appunto scomparso da poco si muove sulla via Emilia e in alcuni anfratti documentando appunto tutti questi esperimenti chiamiamoli così di arte nello spazio pubblico grazie benissimo grazie Claudio hai aperto ovviamente un baratro se vogliamo diciamo su quelli che sono diciamo su quella che è anche una visione fenomenologica del paesaggio perché poi vengono in mente anche altri esempi come gli interventi di Cesar Manrique per esempio nelle rotatorie di Lanzarote che effettivamente avevano questa funzione ma che hanno appunto anche un valore simbolico in questi luoghi di nessuno questi che sono considerati ambiti diciamo all'interno delle aree urbane che nella riprogettazione urbanistica per esempio hanno avuto anche delle interpretazioni come Salvador Rueda che è stato un urbanista un otticologo e un urbanista visionario ha immaginato per Barcellona per esempio le superiglie cioè il progetto che parte proprio dalla vita delle persone costruisce attorno ad esse un nuovo modo di reinterpretare questi non luoghi questi luoghi di nessuno questi spazi dove appunto prima ci sono le automobili e poi invece c'è qualcos'altro che invece sollecita la vitalità la partecipazione la prossimità e dunque la cura ecco proprio nella cura degli spazi adesso diamo la parola a Valentina Sansone che invece ci parla di un argomento e di un tema molto delicato e assolutamente attuale che riguarda proprio il riutilizzo dei beni confiscati i beni confiscati e le mafie hanno appunto questa ritornano alla comunità ritornano alla collettività ecco Valentina Sansone con il progetto che ha seguito personalmente che si chiama Magazzino Brancaccio che è un progetto community based realizzato a Palermo nel 2018 ha trovato appunto ha sperimentato queste prime queste queste modalità nuove strategie di di gestione di questi spazi quindi grazie Valentina ti do la parola grazie Laura grazie alla direzione generale della creatività contemporanea grazie ai relatori buongiorno a voi e buongiorno agli uditori il mio contributo affronta il tema del riuso sociale appunto lo diceva Laura dei beni confiscati come spazio per l'attività curatoriale prevede la presentazione di strumenti e di modalità applicate a pratiche culturali e artistiche nello spazio pubblico nell'ambito di processi partecipativi che operano in combinazione con approcci giuridici ed elementi amministrativi questa presentazione parte dal caso studio di Magazzino Brancaccio un progetto community based nato a Palermo nel 2018 che ha permesso la restituzione di un bene confiscato alla criminalità organizzata il case study opera sia come paradigma curatoriale che allo stesso tempo come un'indagine sulle norme giuridiche e le cornici legislative ma anche amministrative burocratiche e politiche che regolano la gestione dei beni confiscati in Italia mentre la prima parte del mio contributo ripercorre le richieste di accesso e le collaborazioni con istituzioni locali curatori legali e l'agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati la seconda parte si interroga su proposte di gestioni sperimentali e nel corso di questa presentazione sarà avviata anche una riflessione critica per quanto ce lo permettono i minuti sui temi proposti e che sono analizzati da un punto di vista delle scienze sociali della legislazione sui beni confiscati ma anche in riferimento a studi e teorie critiche del diritto oltre che da un punto di vista storico e culturale per avvenzare una proposta grazie al modello sperimentale individuato una piccola nota sui crediti fotografici tutte le foto che accompagnano questa presentazione sono di Luca Savettiere se non specificato diversamente dal 2017 una delle aree principali della mia ricerca riguarda l'identificazione delle cornici legislative che interessano i processi di riconversione di immobili confiscati alla criminalità organizzata in spazi per iniziative a scopo sociale come è previsto dalla legge 109 del 1996 e questo lo vedremo più avanti i beni immobili confiscati si trovano molto spesso in stato di totale abbandono sono stati vandalizzati dal clan subito dopo la confisca per esempio o ancora più semplicemente sono decadenti si trovano in pessimo stato per via di lunghi processi burocratici e amministrativi che precedono le pratiche di assegnazione e di destinazione attenzione per i beni immobili intendiamo gli appartamenti intendiamo le ville capannoni garage terreni edificabili o agricoli che possono essere mantenuti al patrimonio dello stato o trasferiti al patrimonio del comune nel quale si trovano i beni immobili possono essere utilizzati per finalità istituzionali o sociali da dove parte questo studio parte da un progetto su arte nello spazio pubblico e performance che fu selezionato come uno degli eventi collaterali di manifesta la Biennale internazionale nomade di arte contemporanea che per la sua dodicesima edizione si è svolta a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018 il progetto che ho curato dal titolo beni confiscati architettura ideologie performance la cui durata prevista inizialmente avrebbe dovuto coincidere con quella della Biennale manifesta è però giunto a degli esiti totalmente inaspettati perché non solo ha riattivato uno spazio abbandonato nel quartiere di Brancaccio nella periferia di Palermo confiscato la criminalità organizzata nel 2000 ma ha anche avviato il processo di riappropriazione del bene sequestrato quasi vent'anni prima oltre che contribuire alla formazione del progetto magazzino Brancaccio fondato appunto nel 2018 è attualmente in corso un progetto che da temporaneo è diventato ongoing un progetto community based un'associazione che oggi è composta da sette professionisti che provengono da campi e discipline diverse curatori educatori architetti ricercatori esperti del suono professionisti e attivisti nel campo dei cosiddetti dati aperti un progetto che porta avanti i contenuti che alimentano e ispirano anche la mia attuale ricerca nel contesto di un programma di dottorato practice based all'università Goldsmiths a Londra sui beni confiscati come spazio per la creazione di occasioni di incontro dialogo negoziazione l'attività del curatore non è semplicemente quindi intesa come organizzazione di un evento espositivo ma come uno spazio in espansione un piccolo inciso sul contesto dove ci troviamo siamo nel quartiere Brancaccio quindi sulla costa sud di Palermo l'area rappresenta un territorio legato a vicende tristi vicende di Cosa Nostra culminate con l'uccisione di Don Pino Puglisi il 15 settembre del 1993 è un territorio caratterizzato da un alto tasso di criminalità e da una forte dispersione scolastica ma non solo nel quartiere Brancaccio esistono presidi di legalità basti pensare al lavoro delle scuole e dei centri di accoglienza è un patrimonio storico artistico come il parco della Favara un parco reale dove sorge il castello di Mare Dolce edificato da Ruggero II nel XII secolo dopo episodi di abbandono e un'occupazione abusiva oggi il paesaggio di Mare Dolce e la Favara è oggetto di interventi di recupero ha vinto il castello di Mare Dolce il paesaggio Mare Dolce e la Favara ha vinto per esempio il premio internazionale del paesaggio Carlo Scarpa della Fondazione Benetton nel 2015 è interessante individuare la distanza tra la sede operativa di magazzino Brancaccio e il castello lo vedete contrassegnato dal numero 1 su questa mappa e a circa un chilometro di distanza è possibile raggiungere a piedi via Natale Carta in cui ha avuto a sede il bene confiscato oggetto del lavoro portato avanti da magazzino Brancaccio lo vedete segnalato al numero 8 magazzino Brancaccio ha voluto rappresentare un nuovo servizio permanente sia per il quartiere che per la città vediamo velocemente in ordine le fasi di questo progetto il primo accesso allo spazio confiscato a Brancaccio è stato reso possibile grazie a una fase di ricerca durata circa un anno che ha permesso di identificare l'ex parcomacchine confiscato e abbandonato ma che era già stato un precedente soggetto da parte di attenzione oggetto di interesse da parte della sua comunità in una primissima fase infatti individuo un documento datato addirittura 2015 in cui si inviava una richiesta ufficiale con una lettera alle autorità perché si restituisse il bene confiscato di Via Natale Carta 1 barra 3 a Brancaccio Palermo la lettera è firmata da un gruppo di studenti e insegnanti del liceo Danilo Dolci che è l'imitrofo al bene confiscato nello specifico si richiede l'accesso a uno spazio di circa 2000 metri quadri rimasto chiuso dalla sua confisca avvenuta nel 2000 in uno stato di totale abbandono è significativo che lo spazio richiesto per che lo spazio richiesto dagli studenti e dai docenti sia richiesto per attività extrascolastiche e culturali perché nel quartiere non ci sono servizi di questo genere e gli studenti ne fanno precisa richiesta questo documento va letto come un primo segnale di presa di coscienza delle potenzialità di una comunità nei processi decisionali che riguardano lo spazio pubblico che riguardano un bene che appartiene a tutti siamo a marzo nel del 2018 più avanti organizzo un workshop che coinvolge studenti dello stesso liceo il liceo da cui tre anni prima si inviava la prima richiesta di accesso al bene confiscato nel corso del laboratorio su open data e monitoraggio civico si analizza il caso del bene di via natale carta la sua storia e così anche la lettera del 2015 con quella primissima richiesta questo workshop ci ha permesso di lavorare con gli studenti a una seconda richiesta per l'accesso allo spazio di Brancaccio nessuno ha risposto nel 2015 ma ci risposero nel 2018 l'accesso al bene confiscato ci fu concesso nella forma temporanea di un comodato d'uso un contratto tra soggetti diversi lavoro infatti alla richiesta di accesso insieme al curatore amministrativo del bene in collaborazione con il centro di accoglienza fondato da Don Pino Puglisi a Brancaccio e un gruppo di attivisti i docenti gli studenti del liceo Danilo Dolci professionisti dei beni comuni ed esperti del terzo settore gli step della seconda fase del progetto hanno intenzionalmente mantenuto un approccio dal basso nel corso di un processo a lungo termine che ha visto l'incontro fra architettura comunità luoghi e situazioni nello spazio pubblico è ufficialmente aperto il processo di riattivazione e di recupero del locale che è svuotato ripulito grazie a un gruppo di volontari la cui maggior parte di loro viene messa a disposizione dal centro di accoglienza a Brancaccio ed è finalmente pronto per essere restituito al quartiere ed eccolo qui questa seconda fase parte il 16 giugno 2018 con una performance che ha segnato un vero e proprio rituale di riappropriazione magazzino Brancaccio organizza successivamente un calendario di eventi e di attività con la partecipazione della comunità locale in collaborazione con i centri le associazioni gli istituti scolastici sul territorio a partire dal 16 giugno 2018 le attività e gli scambi con tutti i soggetti attivi nel quartiere non si sono mai fermati i progetti di magazzino Brancaccio portano avanti iniziative che rispondono a necessità urgenti dalla dispersione scolastica alla valorizzazione del territorio la metodologia include modalità di accesso civico e di cittadinanza attiva pratiche di partecipazione che si ispirano alla community art and music e a figure pioneristiche come il sociologo poeta ed educatore Danilo Dolci il compositore musicista Cornelius Cartiu e il drammaturgo Augusto Boal questa è solo una piccolissima selezione che vi ho mostrato di immagini degli eventi che si sono svolti dal giugno 2018 alla fine del 2019 hanno purtroppo subito un arresto per via dell'emergenza coronavirus in corso sono paradigmi da rivedere lo ha detto Laura Bareca all'inizio della giornata di studi gli eventi si sono organizzati a Brancaccio e anche fuori sede qui quella che vedete adesso è una foto a Stoccolma dove abbiamo portato dodici tra studenti e docenti del Conservatorio Scarlatti di Palermo a lavorare con un gruppo internazionale all'Università per le Arti e il Design CONSTFAC dove mi trovo in questo momento magazzino Brancaccio ha organizzato dodici eventi lavorato in collaborazione con trenta diversi partner internazionali e nazionali una media di un evento al mese con la partecipazione della comunità locale in una forma completamente gratuita e aperta a tutti grazie al lavoro di professionisti ricercatori nel campo di cultura e società dati aperti a partire da una concezione di beni confiscati alla mafia come beni comuni come beni comuni intesi come beni a disposizione della crescita della comunità questa ultima fase si interroga su limiti e potenzialità delle pratiche curatoriali contemporanei nello spazio pubblico propone una nozione di curatoriale come un luogo in continua espansione che può anche includere la negoziazione per l'accesso a un bene confiscato e la coproduzione di norme aggiornate sulla gestione di questo tipo di beni gli sviluppi più recenti del progetto si sono scontrati con una forma legislativa complessa sia a livello municipale che nazionale questa ricerca ha messo in luce l'esistenza di lacune nella gestione di beni confiscati luoghi che possono assolutamente contribuire a produrre un valore attraverso pratiche artistiche e multidisciplinari e l'attività curatoriale come nel caso di magazzino Brancaccio sviluppare una proposta concreta allo scopo di assicurare lo spazio nell'interesse della comunità è stata la priorità del progetto che ho illustrato questa necessità è stata dettata non solo da ragioni menzionate dalle ragioni che ho menzionato prima la primissima richiesta di cittadini che parte già nel 2015 ma anche degli scenari che si sono delineati più di recente che illustrerò a breve sono due gli interventi legislativi fondamentali in Italia la cosiddetta legge rognoni la torre che consente per la prima volta di aggredire direttamente i patrimoni criminali e la legge 109 del valentina scusami guarda due o tre minuti massimo certo e la legge 109 del 1996 che appunto redige le disposizioni in maniera di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel 1995 libera associazione nomi numeri e contro le mafie avvia una campagna di sensibilizzazione e di raccolta di un milione di firme che giunse all'approvazione della legge 7 marzo 96 numero 109 sul rutilizzo dei beni confiscati per fini sociali la legge 109 del 96 sul rutilizzo del sociale dei beni confiscati alle mafie prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti associazioni cooperative comuni province e regioni in grado di restituirli alla cittadinanza attraverso servizi attività di promozione sociale e lavoro la legge 109 del 96 ha due obiettivi da un lato indebolisce le organizzazioni mafiose dall'altro riaffermare il principio di legalità con la restituzione dei beni alle comunità si riconosce che sono proprio queste ultime ad essere state maggiormente danneggiate dalla presenza di attività illecite nel quartiere in Europa ci limitiamo soltanto a dire che oltre ad esserci delle esperienze di riuso sociale significative in Spagna in Belgio in Lussemburgo in in Francia la direttiva del 2014 invita i paesi membri a alimentare attività che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopo e di interesse pubblico e sociale parliamo di utilità sociale abbiamo detto uso a fini sociali andrebbe riproblematizzato il termine di sociale o almeno andrebbe indagato in dubbio che la nozione di sociale a cui fanno riferimento i documenti le normative le direttive appena presa in esame non forniscano una delucidazione in merito possiamo proporre un'interpretazione nella lettura che propongo il termine sociale deve essere inteso come radicato nelle pratiche materiali e nei processi di produzione storica politica economica e culturale con questo studio si vuole tra gli altri scopi problematizzare i concetti di partecipazione e democratizzazione cosa che aveva già avviato David Arve nel 1989 nozioni ricorrenti relativamente alle pratiche socialmente impegnate ma torniamo a Palermo che con i 1380 beni destinati al 31 dicembre 2020 è l'amministrazione con il maggior numero di beni destinati in tutta Italia e che va preso in considerazione per questo triste primato il lavoro condotto fino ad oggi con magazzino Brancaccio dimostra che esistono lacune nella gestione di questo patrimonio lo abbiamo detto ma ce lo conferma anche il recente rapporto ISTAT sull'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata della comune di Palermo che evidenzia che non esistono dati per le finalità statistiche sull'utilizzo effettivo e sui soggetti gestori dei beni destinati il problema è che il flusso informativo si interrompe al momento della destinazione e anche se noi non abbiamo un approccio quantitativo ma un approccio qualitativo di ricerca abbiamo bisogno di partire da una completezza dei dati per svolgere un lavoro che sia efficace per concludere il 14 luglio del 2021 il bene di Via Natale Carta a Brancaccio è assegnato definitivamente al liceo Danilo Dolci questa è una buona notizia per tre anni magazzino Brancaccio ha operato sul territorio attivando un bene rimasto abbandonato per vent'anni con la collaborazione di una rete locale a partire da una concezione di beni confiscati alla mafia come beni comuni il fatto che il nome magazzino Brancaccio sia ormai entrato nell'uso comune in riferimento all'immobile di Via Natale Carta e che sia ampiamente utilizzato allo stesso modo da istituzioni cittadini e rappresentanti di associazioni enti sul territorio ci dà prova del fatto che è entrato nell'immaginario collettivo del quartiere dal passaparola agli uffici comunali da un banco di scuola a un tavolo da pranzo mi avvio veramente alle conclusioni e la proposta che vorrei avanzare risponde Valentina dobbiamo chiudere perché alle 13 dobbiamo chiudere c'è l'intervento con Fabio De Chirico esatto quindi chiudo con un'attività con due coesiti che mi pongo con questo contributo e vi pongo un'attività che si ispira all'esperienza pratica può produrre una gestione realmente condivisa di beni comuni dopo la segnazione chi garantisce che gli obiettivi di riuso sociale siano perseguiti e raggiunti grazie io ho concluso grazie grazie Valentina e queste tue ultime domande richiederebbero davvero un'intera giornata di discussione ma arrivando e dovendo chiudere poi verso le 13 lasciamo la parola e le conclusioni al direttore della Dark Fabio De Chirico grazie sì grazie buongiorno a tutti ringrazio tutti i relatori ringrazio ovviamente Laura Barreca e Alessandra Pioselli che hanno in maniera greggio moderato questa giornata che è stata intensissima e credo anche ricca di moltissimi spunti io cercherò di segnalare le questioni che a mio avviso sono molto importanti a partire dal fatto che la direzione generale creatività io dirigo appunto il servizio secondo ha voluto con grande veramente con grande determinazione l'organizzazione di questo di queste giornate io prima persona io ovviamente con la collaborazione di Paolo Castelli di Stefania Renotarpietro ma poi anche di Matteo Piccioni e di altri collaboratori Valentina Fiore perché la direzione si sta occupando da diversi anni io sono già dal 2015 da quando è stata istituita la direzione generale ci siamo occupati di arte pubblica e di arte negli spazi pubblici in tante forme in tante declinazioni mi sembrava molto importante innanzitutto ricordare che esiste una legge in Italia e lo dico perché noi abbiamo il monitoraggio di questa di questa norma ma abbiamo anche la vigilanza sull'applicazione che è la legge cosiddetta del 2% del 49 e parto da questa legge per ricordare che questa legge consente a tutte le committenze pubbliche che riguardano l'ampliamento di edifici pubblici la possibilità di destinare una quota alla realizzazione di opere d'arte destinate a quegli spazi quando nel 2017 io ho presieduto la commissione abbiamo posto l'attenzione su due punti essenziali la commissione che ha rivisto il regolamento ossia da un lato la presenza e il coinvolgimento degli artisti già nella fase preliminare cioè già nell'avvio del progetto iniziale che si collega all'applicazione della legge e la presenza di un curatore di un curatore che si occupi proprio di questo di questo tema segnalo solo queste due questioni perché mi pare che in tutti gli interventi di oggi dal primo all'ultimo si sia posta molta attenzione al tema e al ruolo dei curatori che mi pare essere un tema centrale però l'interesse che la direzione ha per l'arte negli spazi pubblici è legata anche a questioni diciamo quotidiane con cui noi abbiamo a che fare come direzione generale ossia noi quando siamo partiti nell'organizzare questo convegno siamo partiti da questioni che riguardavano quattro punti essenziali ossia la progettazione degli interventi di arte pubblica la realizzazione degli stessi il tema della manutenzione della cura delle opere negli spazi pubblici e naturalmente la valorizzazione che coinvolge non soltanto i detentori i proprietari e quindi anche i committenti ma anche naturalmente i pubblici ora in tutte queste fasi esistono indubbiamente in Italia delle realtà che sono sicuramente virtuose penso al comune di Milano per esempio che è istituito addirittura un ufficio all'interno della propria amministrazione dedicato proprio al patrimonio pubblico all'arte pubblica ma ovviamente la situazione in Italia è molto molto variegata segnalo le questioni che a mio avviso sono state molto importanti l'intervento di Varagnoli ha posto l'accento sul tema della ricucitura degli spazi e sul ruolo che l'arte e la programmazione e la progettazione di interventi di arte pubblica possono avere nel ricostituire queste nel ricucire queste lacune ma che diventano poi nel corso del tempo ricuciture di memoria e di identità e questo secondo me è un tema fondamentale così come ho ritenuto importante il fatto che Cerruti abbia messo l'attenzione sul tema dell'arbitrarietà dell'utilizzo degli spazi importantissima la differenziazione nelle tre declinazioni che vi è evidenziato ma mi pare che il tema dell'arbitrarietà e della progettazione che coinvolga le comunità sia un tema da tenere molto presente l'intervento invece poi di Gabriella Scardi ha centrato queste quattro esperienze legate a Parco Sempione però io ritengo che questa esperienza di Parco Sempione nella idea di una performatività di coinvolgimento pubblico del pubblico nel tempo è legata al fatto che probabilmente questi interventi abbiano anche un'utilità oltre ad avere una valenza estetica cioè sono spazi di condivisione e continuano ad essere spazi di condivisione perché queste quattro opere sono opere diciamo che in qualche modo hanno una destinazione d'uso specifica quindi sono spazi per il teatro piuttosto che per il chiosco piuttosto che l'arena piuttosto che insomma sono spazi che si prestano ad essere a guardare all'interazione col pubblico come una come dire come connaturato all'intervento stesso così come mi è sembrato molto interessante nell'intervento di Zanella e di Castiglione la questione di che ruolo possa svolgere il museo sul tema non soltanto della programmazione degli interventi ma anche della cura l'esempio del Maga di Gallarate è un esempio abbastanza tipico perché è chiaro che le opere destinate agli spazi pubblici una volta musealizzate diventano dispositivi di altra natura mutano probabilmente la loro funzione però è anche vero che l'attenzione che loro hanno posto per esempio all'intervento sulla passerella di Giuliano Mauri secondo me è interessante proprio rispetto al ruolo che il museo può svolgere sul tema della cura e dell'attenzione agli interventi di arte pubblica mi è sembrato molto interessante questo aspetto perché se pensiamo invece a quello che è accaduto alla cattedrale vegetale di Giuliano Mauri all'Odi che è stata invece completamente distrutta perché affidata probabilmente soltanto alla cura di un ente locale e non di un museo come nel caso appunto della passerella ecco potrebbe essere diciamo interessante ripensare anche a che tipo di ruolo si possa affidare al museo la questione poi delle rotatorie mi ha fatto tornare in mente un altro tema perché noi come direzione generale abbiamo tante azioni una di queste è proprio il ruolo di incremento al patrimonio pubblico noi abbiamo il piano per l'arte contemporanea il piano per l'arte contemporanea lo seguo anche io come servizio abbiamo proprio un asse di intervento che è la committenza ebbene nelle ultime negli ultimi bandi quando abbiamo esaminato i progetti di interventi pubblici di proposte di interventi pubblici tra l'altro c'era anche una famosa una famosa opera all'interno di una rotatoria all'interno di uno spazio urbano ebbene abbiamo dovuto come dire valutare che tutte queste committenze pubbliche che arrivano da enti pubblici principalmente o da associazioni no profit sono veramente molto molto qualitativamente poco rilevanti ecco questo noi stiamo cercando di lavorare per indirizzare infatti il nuovo PAC ha proprio un form molto preciso per indirizzare le amministrazioni ad essere molto più attente a prevedere per esempio la presenza di un curatore perché anche se si va a fare un intervento su una rotatoria urbana questo intervento deve essere un intervento che va a qualificare quello spazio e quella comunità diventare appunto un motore di ripensamento dell'identità e del significato all'interno di quel luogo infine per chiudere diciamo così come appunto anche l'intervento di Valentina Sansone sugli spazi riutilizzati anche lì siamo di fronte a spazi comunque che hanno un'utilità sono degli immobili non stiamo parlando di interventi veramente come dire di tipo soltanto estetico all'interno di uno spazio stiamo parlando di immobili che ovviamente devono avere una destinazione d'uso precisa quindi anche questo mi sembra un dato molto interessante quindi per chiudere insomma mi prendo altri due minuti direi che mi pare di capire che il tema di pensare come diceva Alessandra Pioselli all'inizio agli interventi di arte pubblica come a degli interventi ecosistemici credo che sia la chiave di lettura di insomma di quello che è venuto fuori nella giornata di oggi cioè immaginare che negli interventi di arte pubblica qualunque si siano in qualunque diciamo luogo o spazio vadano ad essere realizzati forse devono prevedere l'esistenza di una commissione di una come dire di una non semplicemente essere demandati all'ente pubblico o all'iniziativa privata o pubblica che sia ma evidentemente richiedono come dire la necessità di ripensare alla programmazione alla progettazione attraverso degli strumenti più codificati e forse più normati da questo punto di vista quindi mi pare che il tema della quindi dunque della presenza del curatore e quindi di una come dire di figure artistiche che non siano legate soltanto alla realizzazione ma anche proprio alla curatela di un progetto di arte pubblica mi pare che sia un elemento molto centrale infine per concludere credo che il tema conduttore un altro dei temi conduttori che mi è sembrato essere veramente presente in tutti gli interventi è il tema dell'interazione con la comunità ebbene questo è un tema sicuramente fondamentale però insomma anche se ripenso la mia esperienza all'interno del del ministero della cultura per esempio mi è capitato di seguire da soprintendente il tema della riqualificazione dello spazio antistante del museo archeologico di Reggio Calabria ebbene lì c'è stato un dibattito enorme su quello che poteva essere il ruolo e la funzione della collettività rispetto alla riprogrammazione di quello spazio da un punto di vista anche degli interventi di arte pubblica e devo dire che resta aperto secondo me il tema di come interagire con le comunità perché spesso le comunità sono portatrici di valori o di interessi soltanto settoriali non sempre la comunità esprime l'identità collettiva ma attraverso le sue forme come dire spesso va a far emergere determinati aspetti piuttosto che altri quindi credo che il tema su questo tema di interazione pubblico privato e su quello che debba essere il ruolo delle comunità rispetto agli interventi di arte pubblica ci siano ancora molti elementi su cui riflettere mi fermo qui però penso insomma di aver dato comunque una chiave di lettura a quelli che sono stati gli interventi di oggi che io ritengo siano stati davvero molto molto interessanti e ringrazio ancora una volta i relatori per i loro contributi e ringrazio